Qui mi hanno detto sta cosa che domani alle 17 c'è questa presentazione, ci pensiamo, tanto siamo in live in quel momento lì, avete visto, abbiamo fatto anche il video con Giacomo, è stato un vero piacere, ciao a tutti, ben arrivati, non inizio a salutarvi perché vi ho schippati tutti, quindi per correttezza non saluterò nessuno in particolare, consideratevi tutti salutati con sputacchietto infetto, si ride naturalmente per non piangere in queste situazioni, sono contento perché ho acquistato Carver, mi fa molto piacere, dei fratelli Caramazzo Fleggo, tutto confermato, tutto confermato, tutto ciò che è Twitch è più che confermato, cioè se c'è una cosa che si presta è fare letture su Twitch e tanto più dei vostri racconti, quindi assolutamente, assolutamente. Hai finito l'isola del giorno prima, Ockham Chainsaw? È bello, è bello assai e sono molto felice che ti sia piaciuto, ma con quel nickname difficilmente non amerai Umberto Eco, quindi direi che si può stare tranquilli. Mi dispiace il microfono, mi dispiace. Benvenuti, tra l'altro uomo Faber, vedo, vedo che ti sei appropriato, anzi dello stemma, la parola giusta è stemma, dello stemma del trenino, che come sapete è il massimo onore, è secondo solo all'onorificenza della medaglia d'or del Presidente della Repubblica. Asimov, sempre caro ci fu. Ragazzuoli, siamo qui, siamo contenti, va tutto bene, spero anche per voi, spero che stiate bene, spero che nonostante tutto siano giornate piacevoli e, esatto, freddi, rubato a te, sì. Sì, e spero che siano giornate che riuscite un po' a spassarvi, insomma, ad intrattenervi in qualche modo e, beh, sono contento soprattutto per chi si sta facendo un pochino di letture anche sulla base di quelle che abbiamo fatto in precedenza. Adesso io non vorrei passare per l'hater di Calvino, ragazzi, non tiriamone fuori un meme perché è finita, è finita. Ho sbagliato, ho sbagliato, ho sbagliato io, colpa mia, ho sbagliato, ho sbagliato io, sorry, sorry, ho sbagliato. Why not, why not? Ovvio Calvino, è colpa mia, è colpa mia, punto interrogativo. Con Montemagno era un po' che è colpa mia, sicuro. Potremmo giocare a Bloodborne leggendo Calvino, ad esempio. Esatto, esatto, vedo che l'abbiamo pensata, l'abbiamo pensata. Eh, lo devo recuperare, dimmi, lo devo proprio recuperare, sta su Netflix e lo dovrò recuperare. E comunque, comunque sia, ragazzuoli, io, non lo so, vogliamo aspettare un minuto, consentire magari a qualcun altro di connettersi. C'è da dire che oggi leggiamo un racconto di 41 pagine, credo che il racconto più lungo che abbiamo mai letto rimanga quello di Lovecraft, anche se erano 35, erano scritte molto più in piccolo. Ciò nonostante ce n'è, ce n'è da leggere della nostra Alice, no? E quindi, magari aspetto un minuto perché è il caso di esserci dall'inizio, insomma, arrivare a metà. Oh, poi ci sono racconti che entri a metà, non cambia niente, però, insomma, non è male. Quindi, no, no, Federico, ma cosa vai a pensare? Dai, su, 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 stai ferendo il mio ego in un modo indescrivibile, inesprimibile e non si può dire. Leggeremo, leggeremo in fuga la title track, per così dire. Cioè, racconto che dà il titolo a questa raccolta della Alice Marrow, che è premio Nobel per la letteratura nel 2013, non che questo a me significhi nulla, però, comunque, si vede che qualcuno, oltre a noi, le ha dato, le ha riconosciuto un valore. Evidentemente, è considerata, leggo qui, la più importante autrice canadese contemporanea di Winga Montario, se lo volete sapere. Ha pubblicato 13 raccolti di racconti e un romanzo. E, insomma, è molto, molto, molto quotata, non c'è bisogno di dirlo. Sono veramente, veramente curioso di leggere questo, questo racconto. No, Federico, no, 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 no. Vero, vero, zack, speriamo, speriamo. Dai, io, insomma, sono veramente curioso. Sapete che la cosa bella, c'è ancora un sacco di libri da aprire là su, la cosa bella è che conosciamo ed incontriamo autori e autrici che mai, nella vita, avremmo preso in considerazione. Questa è una grande figata. Grazie mille, Emanuele, per il tuo supporto. Come state capendo, ho silenziato quel genere di notifiche perché durante la lettura sarebbero fuori luogo. Però, grazie, grazie mille. Bella questa valsera. Ma se ti chiedessero in una stanza con Lovecraft, Calvino e Bloodborne, giocheresti a Dark Souls 2? Probabilmente sì. Ne sono contento, Dario, credo che, visto che sei un musicista, credo che sia una bella attività. Dai, 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 dai. Io dico che, che dite, sono gli 06, tra l'altro ce l'ho anche lì, sono gli 06, speriamo che non sia di quei racconti che dopo mezza riga si è tagliato fuori, però, 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 andiamo. Il racconto si intitola. Ah, non l'ho messo nella... Ah, ma io nella lista Amazon... Eh, lo devo, lo devo aggiungere, lo devo aggiungere, sì, 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 sì. Tra l'altro non mi ricordo neanche se ho messo Il tamburo di latta di Gunther Grass, che è un romanzo piuttosto, piuttosto fenomenale, a dir poco. Uno dei romanzi più belli che abbia mai letto. Ci pensavo stamattina, e non è che, non è che avevo il computer, non è che ho controllato, ho continuato a pensarci. Comunque, siamo qui, non mi devo distrarre, siamo qui con In Fuga di Alice Morrow. Carla udì l'automobile prima di vederla spuntare dalla modesta salita, che da quelle parti chiamavano Colle. È lei, pensò. Mrs. Jameson, Silvia, di ritorno dalle vacanze in Grecia. Dalla porta della stalla, ma abbastanza indietro da non farsi scorgere facilmente, tenne d'occhio la strada che Mrs. Jameson avrebbe dovuto percorrere, considerato che casa sua era circa mezzo miglio più in là, sulla stessa via di Clark e Clara. E Carla. Ok? Che è la Carla, udì l'automobile, eccetera, eccetera. Se fosse stato qualcuno che si preparava a svoltare da loro, a questo punto avrebbe già rallentato. Carla comunque continuava a sperare. Fa che non sia lei. Era lei. Miss Jameson voltò il capo una volta, rapidamente. Aveva già il suo da fare a destreggiarsi con l'auto tra i solchi e le pozzanghere lasciati dalla pioggia nella ghiaia, ma non sollevò la mano dal volante per salutare. Non individuò Carla. Carla colse il lampo di un braccio abbronzato, abbronzato, nudo fino alla spalla, una chioma più chiara del solito, tendente al bianco piuttosto che al biondo, platino, ormai, e un'espressione determinata, esasperata e divertita, dalla propria esasperazione. Esattamente la faccia che Miss Jameson poteva fare affrontando una strada del genere. Quando voltò la testa, le banelò in viso una specie di speranza interlocutoria, e Carla istintivamente si tirò indietro. Così. Forse Clark non lo sapeva ancora. Se era seduto al computer, avrebbe dato le spalle alla finestra e alla strada. Ma non era escluso che Miss Jameson dovesse ripartire di lì. Di ritorno dall'aeroporto poteva non essersi fermata a fare la spesa, non prima di essere rincasata, e aver stabilito che cosa le servisse. Clark avrebbe potuto vederla allora. E col buio si sarebbero notate le luci di casa sua. Ma era luglio, e non faceva buio fino a tardi. Magari era così stanca che non le avrebbe nemmeno accese, sarebbe andata a dormire presto. D'altra parte poteva telefonare in qualsiasi momento. Quella era un'estate di pioggia, e poi ancora pioggia. La sentivi già appena sveglio al mattino picchiare sul tetto della casa mobile. Il cane dei vicini è amico mio. Ah sì, ah sì, ah sì. Spero non vi dia troppo fastidio. E dire che sarà dura che l'abbiano lasciato da solo. Il cane dei vicini è sempre più verde, davvero. Si sente a malapena, sono contento che non vi disturbi. Se non disturba voi, siamo a posto. Quella era un'estate di pioggia, e poi ancora pioggia. La sentivi già appena sveglio al mattino picchiare sul tetto della casa mobile. Le piste sterrate erano coperte di fango, l'erba alta, grondante, e le foglie rovesciavano scrosci d'acqua improvvisi dagli alberi, anche nei rari momenti in cui non diluviava dal cielo e le nubi sembravano diradarsi. Carla si cacciava in testa a un vecchio cappello di feltro australiano attesa larga ogni volta che usciva e infilava nella camicia la trecciona lunga. Per le escursioni a cavallo non si presentava nessuno, anche se Clark e Carla avevano affisso avvisi pubblicitari in tutti i campeggi, nei caffè, nella bacheca dell'ufficio turistico e dovunque lo ritenessero utile. Venivano solo pochi allievi a lezione e per di più quelli abituali, non le infornate di scolaretti in vacanza, gli interi autobus dei campi estivi che avevano dato loro lavoro per tutta l'estate scorsa. E perfino i fissi sui quali contavano preferivano prendersi qualche giorno per un viaggetto o semplicemente annullavano le lezioni per via del clima così scoraggiante. Se avvisavano troppo tardi, Clark addebitava comunque i costi. Qualcuno si era lamentato e aveva disdetto definitivamente. Si guadagnava ancora qualcosa coi tre cavalli a pensione. Quei tre più i quattro di loro proprietà erano fuori nel prato, adesso a vagare nell'erba sotto gli alberi. Parevano indifferenti al fatto che per il momento fosse cessata la pioggia, come spesso accadeva per una parte del pomeriggio. Giusto il tempo necessario a riaccendere le speranze, le nuvole più bianche e più rarefatte lasciavano filtrare una diffusa luminosità che non riusciva mai a trasformarsi in autentico sole e che di solito si risolveva al peggio entro l'ora di cena. Carla aveva finito di pulire la stalla. Se l'era presa comoda, le piacevano il ritmo del lavoro quotidiano, lo spazio ampio sotto il tetto della stalla, gli odori. Fece un salto al maneggio per vedere se il terreno si fosse un po' asciugato in caso l'allievo delle cinque decidesse di presentarsi. Le piogge costanti non erano state quasi mai molto fitte o accompagnate da turbini di vento, ma la settimana precedente si era verificato uno scompiglio improvviso e poi un rovescio tra gli alberi con una raffica d'acqua pressoché di taglio. Nel giro di un quarto d'ora il temporale era passato, ma la strada era ingombrata di rami spezzati, era caduto qualche cavo elettrico e una vasta porzione della tettoia in plastica sul recinto dei cavalli si era staccata. Non so perché chi ha seguito Kentucky Route Zero sto visualizzando l'ultimo capitolo, non so perché. Al fondo della pista si era formata a una pozza grande come un lago e Clark aveva lavorato fino a sera inoltrata per scavare un fossato di scolo. La tettoia non era stata ancora rimessa in sesto. Clark aveva risolto con del filo metallico che isolasse la parte scoperta per evitare che i cavalli finissero nel fango, mentre Carla aveva tracciato un percorso più breve. Al momento Clark era a caccia di un magazzino per acquistare telefoni da copertura su internet. Magari una svendita da un rottamaio. Teloni, che cazzo leggo telefoni scusatemi vi chiedo scusa infatti mio Dio scusatemi al momento Clark era a caccia di un magazzino per acquistare teloni da copertura su internet. I telefoni da copertura ma io non lo so. Magari una svendita da un rottamaio a prezzi abbordabili oppure qualcuno che volesse disfarsi di articoli del genere usati. Di andare in paese alla materiali per edilizia Mayan Robert Buckley specializzata secondo lui in rapine a cassa armata non aveva nessuna voglia perché doveva loro troppi soldi e ci aveva già litigato. Clark non litigava soltanto con quelli a cui doveva dei soldi la sua cordialità irresistibile inizialmente poteva guastarsi all'improvviso. C'erano posti in cui non metteva più piede a causa di qualche litigio costringendo sempre Carla a entrarci. Uno di questi era la farmacia. Una vecchia gli era passata davanti o meglio era uscita dal negozio avendo scordato qualcosa e di ritorno gli era passata davanti anziché e mettersi in fondo alla fila. Lui si era lamentato e la cassiera gli aveva detto la signora l'enfisema al che Clark aveva risposto ma davvero io invece le ho emorroidi così era stato chiamato il direttore a dirgli che si trattava di una battuta gratuita. Nella caffetteria della statale invece gli era stata negata la tariffa scontata per il menù un colazione in virtù del fatto che erano passate le 11 del mattino e Clark aveva ingaggiato una discussione poi aveva lasciato cadere la tazza del caffè da sporto mancando di un soffio si disse un piccolo in passeggino lui rispose che il bambino era a mezzo miglio di distanza e che la tazza si era versata in quanto sprovvista di regolare coperchio gli fecero notare che non l'aveva richiesto lui disse che non avrebbe dovuto essercene bisogno prendi subito fuoco diceva Carla capita non gli aveva detto nulla riguardo alla lite con Joy Tucker invece Joy Tucker era la bibliotecaria di zona che aveva un cavallo a pensione da loro una piccola giumenta saura che è una tipologia di cavallo evidentemente una tipica giumenta saura ma perché ho le cuffie? scusatemi oddio oddio adesso è tutto strano sento tantissimo una piccola giumenta saura molto irascibile di nome Lizzie quando era in vena di battute Joy Tucker la chiamava Lizzie Borden Lizzie Labiz Lizzie Le Bizze insomma non è molto tranquillo il giorno prima d'umore tutt'altro che scherzoso l'aveva montata lamentandosi del tetto non ancora riparato e di aver trovato Lizzie in pessima forma come se si fosse presa un'infreddatura Lizzie diciamo Lizzie piuttosto che Lizzie perché è un po' più semplice Lizzie stava a Benone in realtà Clark aveva tentato per i suoi standard dimostrarsi conciliante ma a quel punto era stata Joy Tucker a prendere fuoco a definire quel posto una discarica e a dire che Lizzie meritava di meglio e Clark le aveva risposto si accomodi a differenza di quanto si aspettava Carla Joy non aveva portato via Lizzie non ancora almeno in compenso Clark che fino a quel momento aveva trattato l'animale come il suo cucciolo prediletto non aveva più voluto averci nulla a che fare di conseguenza Lizzie si era offesa e adesso si impuntava durante le esercitazioni ed era recalcitrante e capricciosa ogni volta che le si dovevano pulire gli zoccoli vale a dire ogni giorno per evitare che si coprisse di funghi Carla doveva fare attenzione che non la mordesse ma la cosa peggiore per Carla era l'assenza di Flora la piccola capra bianca che faceva compagnia ai cavalli nella stalla e nel prato non c'era traccia di lei da due giorni Carla temeva potessero averla attaccata ai cani selvatici o ai coyote o addirittura un orso l'aveva sognata la notte prima e quella precedente nel primo sogno Flora che ricordo è la piccola capra esatto nel primo sogno Flora avanzava dritta verso il letto con una mela rossa in bocca ma nel secondo ieri sera era fuggita vedendo arrivare Carla sembrava che avesse una zampa ferita ma era scappata lo stesso aveva portato Carla fino a una barricata di filo spinato di quelle che si possono trovare sui campi di battaglia e poi lei Flora c'era sgattaiolata dentro con tanto di zampa ferita sgusciandoci sotto come un'anguilla bianca per sparire i cavalli avevano visto Carla attraversare il recinto e si erano avviati tutti verso la rete sembravano fradici nonostante le coperte antipioggia per farsi notare da lei al ritorno Carla parlò a bassa voce scusandosi di essere uscita a mani vuote li carezzò sul collo e sul naso chiedendo loro se avessero notizie di Flora Grace e Juniper sbuffarono e sollevarono il muso come se riconoscessero quel nome e condividessero la sua ansia ma poi Lizzie si intrufolò fra loro a testa bassa sottraendo Grace alle carezze di Carla non paga le diede anche un morso alla mano e Carla dovette perdere un po' di tempo a rimproverarla fino a tre anni fa Carla non aveva mai preso in considerazione le case mobili non le chiamava nemmeno così come ai suoi genitori l'espressione casa mobile le sarebbe parsa pretenziosa certa gente abitava in roulotte punto e basta le roulotte erano tutte uguali grosso modo ma dopo essersi trasferita qui e aver scelto questa vita con Clark Carla cominciò a pensarla diversamente a quel punto si mise a dire casa mobile e a osservare come la gente le sistemasse il tipo di tende che appendevano alle finestre il colore che usavano per verniciare le finiture le ambiziose terrazze veranda e camere extra che annettevano al corpo centrale non vedeva l'ora di provvedere anche lei a simili migliorie per un po' per un po' Clark le aveva dato corda aveva montato nuovi scalini ha perso un mucchio di tempo a cercare un vecchio non conoscevo questa parola che sarebbe un corrimano un vecchio mancorrente in ferro battuto da applicare alla scaletta non si lamentò del denaro speso in vernice per la cucina e il bagno o per le stoffe delle tende con la pittura Carla fece un lavoro frettoloso allora non sapeva che era meglio staccare le ante dai cardini degli armadietti e foderare i tendoni che nel frattempo erano sbiaditi la cosa su cui Carla si mostrò invece recalcitrante fu la sostituzione della moquette identica in tutte le stanze che lei aveva particolarmente contato di cambiare era divisa in quadretti marroni ciascuno dei quali con un disegno marrone più scuro e color ruggine e ghirigori arabeschi marrone chiaro a lungo ritenne che si trattasse dei medesimi ghirigori arabeschi disposti nello stesso modo in ogni riquadro in seguito quando ebbe più tempo moltissimo tempo per osservarli stabilì che si trattava di quattro motivi diversi i quali accostati uno all'altro formavano identici riquadri più grandi a volte era in grado di individuare la figura subito altre volte doveva invece sforzarsi per vederla si dedicava a questa attività quando fuori pioveva e il malumore di Clark pesava su tutto lo spazio interno mentre lui non aveva voglia di occuparsi d'altro che dello schermo del computer in quei casi però la miglior cosa da fare era inventarsi o farsi venire in mente un lavoro da sbrigare nella stalla quando era triste i cavalli non la degnavano di uno sguardo ma Flora che non era mai legata veniva a strusciarle si addosso e con quei suoi scintillanti occhi giallo-verdi le rivolgeva a uno sguardo che non era esattamente solidale ma sembrava piuttosto tradire una cameratesca ironia Flora era un esemplare già abbastanza cresciuto quando Clark la portò a casa da una cascina dove era andato per contrattare l'acquisto di certe forniture per cavalli i proprietari avevano rinunciato a vivere in campagna o almeno ad allevare animali i cavalli li avevano venduti ma delle capre non erano riusciti a disfarsi Clark aveva sentito dire che una capra può portare serenità e benessere in una stalla di cavalli e aveva voglia di verificare l'idea era quella di farla anche montare un giorno l'idea era quella di farla anche montare un giorno o l'altro ma non c'era mai stato segnale che fosse entrata in calore scusate se mi sono un attimo stupito ma pensavo di farla montare come un cavallo cioè di farla cavalcare invece no si riferiva alla riproduzione in un primo tempo Flora era stata tutta per Clark lo seguiva ovunque danzava per attirare la sua attenzione era svelta e aggraziata e provocante come un gattino e la sua somiglianza con una ragazza ingenua e innamorata aveva fatto ridere entrambi invecchiando però sembrava affezionarsi di più a Carla e questo attaccamento le rese di colpo la rese di colpo molto più saggia meno civettuola pareva al contrario capace di manifestare un senso dell'umorismo sommesso e ironico con i cavalli Carla aveva un atteggiamento severo tenero e per lo più materno ma l'amicizia con Flora era tutt'altra cosa dal momento che lei non le concedeva mai di sentirsi superiore ancora niente su Flora disse sfilandosi gli stivali da stalla Clark aveva inviato su internet un appello dal titolo capra smarrita per ora niente rispose lui serio ma non ostile e suggerì non per la prima volta che Flora potesse semplicemente essere andata a cercarsi un maschio da sola non una parola su Mrs. Jamison Carla mise sul fuoco il bollitore Clark canticchiava fra sé come faceva spesso davanti al computer certe volte invece ci parlava stronzate diceva magari rispondendo a qualche richiesta oppure scoppiava a ridere ma non ricordava mai la battuta quando lei gli chiedeva di ripetergliela Carla gridò vuoi un tè? e con sua sorpresa lui si alzò e venne in cucina allora disse allora Carla allora che? allora ha chiamato chi? sua altezza la regina Silvia è appena tornata non ho sentito la macchina non mi pare di avertelo chiesto e perché chiamava? vuole che tu vada ad aiutare a mettere a posto la casa ha detto così domani tu cosa hai detto? le ho detto certo ma meglio che la richiami per confermare Carla disse non vedo perché se l'hai già detto di sì e versò i due tazzoni le ho pulito la casa prima che partisse non capisco che cosa può esserci da fare di tanto urgente e chi lo sa magari mentre era via è entrato un procione e ha fatto casino non si sa mai mica la devo richiamare immediatamente disse lei voglio prima bermi tutto il mio tè e farmi una doccia prima lo fai meglio è Carla si portò il tè in bagno dicendo dobbiamo andare alla lavanderia a gettoni gli asciugamani sanno di muffa anche da asciutti non cambiare argomento Carla perfino dopo che fu entrata nella doccia Clark rimase sulla porta a gridarle non intendo levarti dalle peste Carla dalle peste dai guai non intendo risolvertela io sarebbe era convinta che fosse ancora lì quando uscì ma Clark era tornato al computer Carla si vestì come se dovesse andare in paese sperava che cambiando aria andando insieme alla lavanderia a gettoni prendendo un cappuccino avrebbero forse parlato in modo diverso concedendosi un po' di respiro entrò in soggiorno con passo deciso e lo cinse da dietro con le braccia ma appena fatto quel gesto un'onda di dolore la inghiottì forse c'entrava il caldo della doccia sciogliendola in lacrime e si piegò sopra di lui devastata dal pianto Clark sollevò le mani dal computer ma non si mosse non essere arrabbiato con me disse Carla non sono arrabbiato è solo che detesto quando fai così nient'altro io faccio così perché tu sei arrabbiato non dirmi come sono mi soffochi metti sulla cena lo fece ormai era ovvio che l'allievo delle cinque non sarebbe venuto Carla tirò fuori le patate e si mise a sbucciarle ma le lacrime continuavano a scenderle imponendole di vedere impedendole scusatemi di vedere che cosa stava facendo si asciugò il viso con un pannocarta e ne strappò un secondo da portare con sé prima di uscire sotto la pioggia non entrò nella stalla perché le metteva troppa tristezza stare là dentro senza flora si avviò invece per il viottolo che si inoltrava nei boschi i cavalli erano nell'altro prato si avvicinarono alla rete per osservarla tutti ebbero abbastanza buon senso da capire che Carla aveva la testa altrove tranne Lizzi che sbruffò e saltò un poco a Bologna sbruffare è anche per dire vomitare ma immagino sia invece uno sbuffare da cavallo dai tutto era cominciato quando avevano letto il necrologio quello di Mr. Jamison comparve sul quotidiano della città e al telegiornale della sera mostrarono la sua immagine fino all'anno prima avevano conosciuto i Jamison solo come vicini di casa che se ne stavano per i fatti loro lei insegnava botanica al college a una quarantina di miglia da lì perciò passava un bel po' di tempo in viaggio e lui faceva il poeta filly era cosa nota lui però sembrava occuparsi anche d'altro per essere un poeta e per di più anziano doveva avere circa 20 anni per di più anziano doveva avere circa 20 anni più di Mrs. Jamison era un tipo robusto e attivo sistemò l'impianto fognario di casa sua ripulendo il canale di scolo e isolandolo con delle pietre zappò seminò e cintò un orto realizzò dei sentieri nei boschi si occupò di lavori e di manutenzione della casa quest'ultima era un curioso edificio triangolare che Mr. Jamison aveva costruito anni prima con certi amici sulle fondamenta di una vecchia cascina di roccata del gruppo si diceva che fosse una colita di hippie anche se Mr. Jamison doveva essere un po' troppo vecchio già allora prima di incontrare Mrs. Jamison correva voce che coltivassero marijuana nel bosco la vendessero e nascondessero i soldi dentro barattoli di vetro che poi seppellivano nel terreno intorno alla casa Clark l'aveva sentito dire da persone conosciute in paese e aveva commentato che erano stronzate se no qualcuno sarebbe già andato a disseppellirli a quest'ora qualcuno avrebbe trovato il modo di fargli dire dove erano quando l'essero il necrologio questo era chiaramente Carl che parlava quando l'essero il necrologio Carl e Clark scoprirono che Leon anzi Leon Jamison aveva vinto un grosso premio cinque anni prima di morire un premio di poesia nessuno ne aveva mai fatto parola pareva che la gente riuscisse a credere alla storia dei guadagni della droga sepolti nei barattoli di vetro ma non ha una somma di denaro vinta per aver scritto delle poesie poco dopo l'episodio Clark disse potevamo farlo pagare Carla capì al volo di cosa stesse parlando ma la prese come una battuta ormai è tardi disse non si può pagare da morti anzi no questa mi sa che è la voce di Carla ormai è tardi disse non si può pagare da morti lui no ma lei si è in Grecia ma non ci starà per sempre in Grecia non lo sapeva neanche disse Carla più seria e chi ha detto il contrario non ha il minimo sospetto a questo si può rimediare Carla disse no no Clark proseguì come se lei non avesse parlato potremmo dire che abbiamo intenzione di andare per avvocati c'è un mucchio di gente che ottiene soldi per roba del genere ma non potresti non si fa causa a un morto basta minacciare di rivolgersi alla stampa l'illustre poeta i giornali ci andrebbero a nozze non dobbiamo fare altro che prospettarle l'idea e lei crollerà parli a vanvera disse Carla stai scherzando no disse Clark tutt'altro Carla disse che non voleva più parlarne e lui rispose d'accordo ma ne riparlarono l'indomani e il giorno dopo e quello dopo ancora capitava ogni tanto che lui si mettesse in testa a idee come quella non attuabili forse perfino illegali ne parlava con eccitazione crescente poi inspiegabilmente agli occhi di Carla lasciava perdere se solo avesse smesso di piovere se l'estate si fosse decisa a diventare come tutte le estati normali Clark forse avrebbe potuto lasciar perdere anche questa volta ma non era andata così e nel corso dell'ultimo mese aveva insistito sul progetto come se fosse perfettamente sensato e realizzabile la questione era quanti soldi chiedere troppo pochi e la donna poteva non prendere la faccenda sul serio poteva convincersi che stessero bleffando troppi e magari si tirava indietro diventava ostinata Carla smise di chiedergli se stava scherzando gli disse invece che non avrebbe funzionato che per cominciare la gente si aspettava comportamenti del genere che per cominciare la gente si aspettava comportamenti del genere da un poeta perciò non valeva la pena di investire dei soldi per mettere tutto a tacere lui ribatté che avrebbe funzionato facendo le cose per bene Carla doveva crollare e raccontare tutta la storia a Mrs. Jamison a quel punto sarebbe intervenuto Clark come se non ne sapesse nulla come se l'avesse appena scoperto si sarebbe mostrato furioso pronto a spifferare tutto il mondo intero avrebbero fatto sì che la prima a parlare di soldi fosse proprio Mrs. Jamison il danno l'hai subito tu in quanto molestata e umiliata e anche io in quanto tuo marito è una questione di rispetto e avanti a ripetere sempre la stessa cosa mentre lei cercava di dissuaderlo e lui insisteva promettimelo disse Clark promettimelo il tutto il tutto scusate a causa di ciò che lei gli aveva raccontato cose che adesso non poteva ritrattare o negare e qui ci sono delle scritte che sono in corsivo che rappresentano un dialogo a cena di dialogo precedenti certe volte lui si interessa a me sai il vecchio certe volte mi chiama in camera sua quando lei non c'è ah quando lei deve uscire per la spesa e non c'è neanche l'infermiera idea geniale da parte sua e a Clark piacque subito e tu in quei casi che fai ci vai Carla fece la vergognosa qualche volta lui ti chiama in camera sua allora Carla e poi io vado a vedere cosa vuole e cosa vuole fine della parte corsiva domande e risposte pronunciate a sussurri sebbene nessuno potesse sentire addirittura quando erano nella terra franca del letto matrimoniale una fiaba della buonanotte in cui i dettagli erano cruciali e dovevano essere arricchiti ogni volta sempre con una persuasiva riluttanza con timidezza risatine che schifo che schifo e non era solo lui a mostrarsi smanioso riconoscente era così anche per lei smaniosa di compiacerlo e di eccitarlo di eccitarsi ho capito riconoscente ogni volta che funzionava in altre parole di che cosa stiamo parlando del fatto che lei utilizza questa fantasia del vicino maiale per arrapare il marito Clark e quindi insomma così accendere la serata a letto e quindi era un'idea che se non ho capito male poi lo scopriremo che nasceva come gioco erotico e però lui muore e diventa qualche cosa di diverso sì sì davvero davvero diventa un piano interessante se ho capito bene è interessante questa cosa vi dico che non dovrebbero esserci problemi di streaming nel senso che non ho perso frame e il bitrate è costante e così anche per lei smaniosa di compiacerlo e di eccitarlo di eccitarsi riconoscente ogni volta che funzionava e in un angolo della sua testa era vero rivedeva il vecchio libidinoso il rigonfiamento sotto il lenzuolo un uomo effettivamente confinato a letto quasi privo dell'uso della parola ma eloquente a livello gestuale capace di comunicare il suo desiderio di persuaderla con gomitate palpeggiamenti a una complicità a effusioni e compiacenti acrobazie il rifiuto da parte sua era doveroso ma forse curiosamente anche una lieve delusione per clark di quando in quando affiorava un'immagine e carla doveva cacciarla indietro ammazzate per non rovinare ogni cosa le tornava in mente il vero corpo gracile sotto il lenzuolo pieno di farmaci e in via di costante rattrappimento ogni giorno in quel letto da ospedale preso a noleggio un corpo intravisto solo di rado quando mrs jemison o l'infermiera a domicilio dimenticavano di chiudere la porta lei in effetti non gli si era mai avvicinata più di così in realtà ogni volta tremava l'idea di andare dai jemison ma le servivano i soldi e poi le faceva pena mrs jemison con quell'aria tormentata e sgomenta da sonnambula un paio di volte carla si era lasciata andare avere le proprie buffonate pur di allentare un po' la tensione il tipo di espediente che utilizzava anche con gente goffa e terrorizzata che montando a cavallo per la prima volta si vergognava tempo dietro ci aveva provato anche con clark quando si impantanava nei suoi malumori ma con lui non funzionava più la storia di mr jemison invece aveva funzionato decisamente non c'era modo di evitare le pozze d'acqua sul sentiero né l'erba alta e fradicia che lo costeggiava né il cer né il cerfoglio selvatico recentemente rifiorito grazie air daniel oliva anche perché il tuo nick è una cheat a qualcosa che insomma se qualcuno ha un brividino capisce grazie del supporto malaria era tiepide Carla non sentiva freddo aveva gli abiti zuppi come se stesse sudando o si lasciasse colare addosso dal viso le lacrime insieme alla pioggia col tempo il pianto si esaurì non aveva niente per pulirsi il naso essendo ormai fradicia la carta ma si chinò e lo soffiò forte dentro una pozzangra sollevò la testa e riuscì a produrre il lungo fischio vibrato che era il segnale suo e di Clark per chiamare Flora attese un paio di minuti poi la chiamò per nome senza fermarsi prima il fischio poi il nome il fischio il nome Flora non rispose era quasi un sollievo però sentire solo il dolore della mancanza di Flora forse per sempre in confronto al pasticcio in cui si era cacciata con Mrs. Jamison e all'intermittente disperazione di Clark se non altro la fuga di Flora non era legata a niente che lei e Carla potesse rimproverarsi siamo a pagina 15 su 44 onesto a casa Silvia non trovò altro da fare che aprire le finestre mi dispiace se avete problemi di connessione credo possa dipendere anche dalla parte d'Italia in cui vi trovate io non so oggi per fortuna qui sta andando bene eh infatti 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 Calypso a casa Silvia non trovò altro da fare che aprire le finestre e pensare con un'ansia che la sgomentava senza in effetti sorprenderla che molto presto avrebbe visto Carla tutto l'armamentario della malattia non c'era più la camera che un tempo era stata stanza da letto di Silvia e di suo marito poi capezzale di morte si presentava pulita e riordinata come se non vi fosse mai accaduto nulla Carla aveva dato una mano durante quei pochi giorni frenetici tra la cremazione e la partenza di Silvia per la Grecia ogni singolo vestito indossato da Leon e anche qualche articolo nuovo compresi i certi regali delle sorelle che non aveva mai neppure aperto erano stati ammucchiati sul sedile posteriore dell'auto e consegnati alla bottega dell'usato pillole set da barba lattina intatta della bevanda ricostituente che lo aveva tenuto in piedi fino al limite del possibile scatole di quei biscotti al sesamo che un tempo mangiava a dozzine bottiglie di plastica piene della lozione usata per massaggiargli la schiena le pelli di pecora su cui si era sdraiato tutto venne scaraventato dentro sacchi di plastica gettato nella spazzatura senza che carla facesse il minimo commento non disse mai forse a qualcuno potrebbe servire né fece notare che c'erano scatole intere di lattina intatte quando silvia disse sono pentita di aver portato i vestiti in paese preferirei averli bruciati nell'inceneritore carla non si mostrò affatto sorpresa sgrassarono il forno lavarono a fondo gli armadietti di cucina pulirono muri e finestre un giorno silvia sedette in salotto e passò in rassegna tutte le lettere di condoglianze ricevute non c'erano mucchi di carte e tacquini di cui occuparsi come ci si sarebbe aspettati da uno scrittore nessuna opera incompiuta né appunti di prime stesure mesi prima lui le aveva detto di aver buttato via tutto senza rimpianti scritto in corsivo il muro della casa rivolto a meridione era un'unica teoria di grandi finestre silvia alzò gli occhi sorpresa dal sole pallido che era uscito o forse dall'ombra di Carla in cima a una scala braccia e gambe nude la faccia risoluta incoronata da una ureola di capelli arruffati come soffioni e troppo corti per stare raccolti nella treccia insieme agli altri era lì che spruzzava i vetri e li lucidava vigorosamente quando si accorse che silvia la stava guardando si interruppe e allargò le braccia come se volesse aderire al vetro e assunse una sciocca espressione da gargolla scoppiarono a ridere tutte e due silvia sentì la risata correrle nelle vene come un torrente d'allegria tornò alle sue lettere mentre Carla si rimetteva a pulire decise che tutte quelle parole gentili sincere o di circostanza gli omaggi e rimpianti potevano fare la stessa fine delle pelli di pecora e dei biscotti quando udì Carla a tirar giù la scala e poi i suoi passi sulla veranda la colse un moto di timidezza restò seduta dove era a testa bassa mentre Carla le passava alle spalle diretta in cucina per riordinare il secchio e il rotolo di carta sotto il lavello Carla si fermò appena passando rapida come un uccello ma riuscì a depositare un bacio sul capochino di Silvia poi continuò a fischiettare qualcosa tra sé e sé da allora quel bacio non era più uscito dalla mente di Silvia non significava niente di speciale voleva dire su con la vita oppure ci siamo quasi voleva dire che erano due buone amiche e che insieme avevano sbrigato un mucchio di faccende deprimenti o magari soltanto che era uscito il sole che Carla stava pensando di tornare a casa dai suoi cavalli eppure a Silvia sembrò un fiore coloratissimo i cui petali le invasero il corpo di un impetuoso calore come una vampata da menopausa mamma mia è pazzesco questo non me l'aspettavo non me l'aspettavo stavo per dire madonna che sviolina che smielata sta descrizione come una vampata da menopausa di quando in quando le era capitata qualche studentessa speciale ai corsi di botanica ragazze intelligenti che con la loro dedizione il goffo egocentrismo o la genuina passione per il mondo della natura le avevano ricordato lei stessa da giovane costoro costoro le ronzavano attorno adoranti speravano di guadagnare una specie di intimità alla quale per lo più non avrebbero saputo dar forma e in breve le davano sui nervi Carla era tutta un'altra cosa se la si fosse dovuta paragonare a qualcuno nella vita di Silvia sarebbe stato a certe sue compagne di liceo quelle in gamba ma non troppo buone atlete ma non devastate dalla competitività cordiali ma non chiassose allegre di natura il posto dove qui è è un discorso diretto il posto dove ero un paesino minuscolo dove sono stata con le mie due vecchie amiche era di quelli dove una volta ogni chissà quanto si fermava un autobus come se avesse perso la strada i turisti scendono e si guardano intorno assolutamente sbigottiti di ritrovarsi lì nel bel mezzo di niente non c'era una sola cosa da comprare Silvia raccontava della Grecia Carla sedeva un po' più in là la ragazzone impacciata e solare era finalmente seduta lì nella stanza che era stata piena di pensieri sul suo conto sorrideva appena e annuiva placidamente e in un primo tempo non mi capacitavo neanche io faceva così caldo però è vera la storia della luce è stupenda alla fine ho capito che cosa bisognava fare pochissime semplici cose che però possono riempire la giornata fai mezzo miglio di strada in su e poi ti compri un po' d'olio mezzo miglio in giù e ti prendi il pane e il vino e così se ne va la mattina poi mangi un boccone all'ombra sotto le piante e dopo pranzo fa troppo caldo per qualsiasi cosa che non sia ascoltare gli scuri e sdraiarti sul letto magari a leggere all'inizio leggi poi neanche più quello chi te lo fa fare più tardi ti accorgi che le ombre si sono allungate allora ti alzi e vai a farti una nuotata oh si interruppe dimenticavo saltò in piedi e andò a prendere il regalo che aveva portato e di cui non si era scordata affatto non le era sembrato il caso di darlo subito a Carla voleva aspettare un momento in cui fosse sembrato più naturale e mentre parlava aveva pensato di farlo coincidere con il riferimento al mare ai bagni di mare dicendo come ora fece sai i bagni mi hanno fatto ricordare questo perché è una riproduzione in scala sì una riproduzione ridotta del cavallo che hanno trovato sott'acqua scolpito in bronzo l'hanno recuperato dopo tutto questo tempo sembra che risalga al secondo secolo avanti Cristo quando al suo arrivo Carla si era guardata intorno per capire che cosa ci fosse da sbrigare Silvia le aveva detto dai sediti un attimo non ho avuto nessuno con cui parlare da quando sono tornata per favore e Carla si era seduta sul bordo della sedia a gambe larghe le mani tra le ginocchia con aria un po' desolata poi come rovistando tra remote scorte di buone maniere aveva chiesto come era la Grecia quindi capite il tempo è andato indietro avanti ci stai inquadrando con leggeri scarti temporali una piccola scena e c'è un grandissimo in questo racconto c'è un intelligente uso del tempo non è tutto lineare ci sono degli avanti e indietro anche molto piccoli ma che servono a dare ritmo non so se lo state notando è una cosa molto molto sottila come era la Grecia adesso era in piedi con il cavallo ancora mezzo al volto avvolto nella carta velina stropicciata dicono che rappresenti un cavallo da corsa disse Silvia nel gesto dell'ultimo scatto lo sforzo finale della gara vedi anche il cavaliere il ragazzo lo incita al limite estremo delle forze non fece parola del fatto che quel ragazzo le avesse ricordato Carla e che non avrebbe saputo dire perché non doveva avere più di 10-11 anni forse per la forza e la grazia del braccio che in teoria doveva reggere le redini o magari per le rughe sulla fronte infantile la concentrazione assorta e lo sforzo simile in un certo senso a quelli che faceva Carla la primavera scorsa mentre puliva i finestroni le gambe robuste nei pantaloncini le spalle larghe gli ampi gesti del braccio sul vetro e infine il modo in cui si era stampata per scherzo contro la finestra invitando se non addirittura costringendo Silvia a mettersi a ridere eh già si vede disse Carla che ora esaminava diligentemente la statuetta color bronzo verdastro grazie infinite vi faccio notare una cosa vi faccio notare una cosa lei faceva questa domanda Carla dice com'era la Grecia e dopo lei dice era in piedi con il cavallo eccetera non è un diciamo uno stacco non manca qualcosa com'era la Grecia è la domanda che finisce il prequel che abbiamo appena letto della scena che poi va a continuare e dopo riprendiamo lei che va a prendere il regalo mentre ci hanno appena fatto un piccolo flashback di Carla che introduceva la conversazione capite è fatto così grazie infinite dice Carla figurati che ne dici di un caffè l'ho appena fatto in Grecia il caffè è molto forte un po' troppo per i miei gusti il pane in compenso è divino e i fichi maturi da non crederci sediti ancora un momento ti prego non dovresti lasciarmi parlare così dovresti fermarmi che mi dici di qui com'è stata la vita da queste parti pioggia quasi tutto il tempo lo vedo me ne sono accorta disse Silvia a voce alta dalla zona cucina del vasto locale mentre versava il caffè decise che non avrebbe fatto parola dell'altro regalo che aveva portato non le era costato niente il cavallo invece l'aveva pagato più di quanto probabilmente la ragazza immaginasse era solo un bellissimo sasso bianco rosato che aveva raccolto per strada questo è per Carla aveva detto all'amica Maggie che le camminava accanto in Grecia lo so che è sciocco ma voglio che abbia un pezzetto di quest'isola aveva già parlato di Carla con Maggie e con Soraya l'altra sua amica spiegando come la presenza della ragazza fosse diventata sempre più importante per lei come tra loro sembrasse essere nato un legame indescrivibile che l'aveva consolata nei mesi atroci della primavera scorsa forse era solo vedere in casa qualcuno una persona così fresca e piena di energie Maggie e Soraya avevano riso in modo cortese ma fastidioso prima o poi una ragazza arriva disse Soraya allungando con indolenza un grosso braccio abbronzato e Maggie aggiunse capita a tutte la cotta per una ragazza Silvia trovò misteriosamente irritante l'uso di quella parola datata cotta il titolo di questa raccolta originale dici in inglese te lo dico subito visto che è Runaway due punti stories tradotto con in fuga magari dipende dal fatto che io e Leon non abbiamo bambini disse è stupido un transfert di amore materno le sue amiche ribatterono contemporaneamente dicendo in modi appena diversi qualcosa che grosso modo significava sarà anche stupido ma sempre di amore si tratta oggi però la ragazza non assomigliava per niente alla Carla che Silvia aveva continuato a pensare niente che vedere con lo spirito solare e placido con la creatura spensierata e generosa che le aveva tenuto compagnia in Grecia a stento aveva mostrato interesse per il suo regalo era quasi scontrosa quando tese la mano verso il tazzone del caffè una cosa ero certo che ti sarebbe piaciuta moltissimo disse Silvia convinto convinta le capre abbastanza piccole anche da adulte ce ne erano di pezzate e di bianche saltellavano da un masso all'altro come spiriti del luogo diede in una risata finta senza più riuscire a fermarsi non mi sarei stupita di vederle inghirlandate intorno alle corna e la tua capretta come sta non mi ricordo come si chiama e Carla disse Flora Flora non c'è più non c'è più l'hai venduta è sparita non sappiamo dove oh mi dispiace mi dispiace ma non è possibile che torni a farsi viva nessuna risposta Silvia guardò la ragazza in faccia cosa che fino adesso non era ancora riuscita a fare e si accorse che aveva gli occhi pieni di lacrime il viso a chiazze anzi sporco si sarebbe detto e che sembrava gonfia ad angoscia non fece nulla per evitare lo sguardo di Silvia tese forte le labbra sui denti chiuse gli occhi e si dondolò avanti e indietro in una specie di muto ululato che poi in modo del tutto sconveniente le uscì proprio di gola ululò e pianse e annaspò in cerca d'aria con le lacrime che le colavano giù per le guance e il moccio che le scendeva dal naso e a quel punto cominciò a guardarsi intorno alla ricerca smaniosa di qualcosa con cui asciugarsi Silvia corse a prenderle una manciata di Kleenex sta tranquilla ecco prendi va tutto bene disse pensando che forse la cosa giusta da fare sarebbe stata prendere la ragazza fra le braccia ma non ne aveva il minimo desiderio e poi poteva anche peggiorare la situazione Carla poteva accorgersi di quanto poco Silvia avesse voglia di farlo di quanto anzi quello sfogo poco dignitoso la spaventasse Carla disse qualcosa una due volte è terribile diceva terribile ma no capita a tutti di dover piangere va bene così sta tranquilla è terribile e Silvia non poteva non sentire come con il procedere di quella manifestazione di angoscia la ragazza si dimostrasse sempre più banale sempre più simile a una delle tante studentesse piagnucolose che le invadevano l'ufficio alcune di loro frignavano per i voti ma era spesso una mossa tattica un breve piagnisteo poco convincente i pianti dirotti più autentici anche se meno frequenti finivano per avere sempre a che fare con qualche faccenda d'amore o di genitori o con una gravidanza la capra non c'entra giusto? no no ti prendo un bicchiere d'acqua è meglio disse Silvia la lasciò scorrere a lungo perché fosse fresca e intanto cercò di farsi venire in mente che altro dire o fare ma quando tornò con il bicchiere Carla si stava già calmando su coraggio disse Silvia mentre Carla buttava giù l'acqua adesso va meglio no? sì la capra non c'entra cos'è? e Carla disse non lo sopporto più che cosa non sopportava più? a quanto pareva il marito ce l'aveva sempre con lei si comportava come se la odiasse lei non ne faceva una giusta non ne diceva una giusta vivere con quell'uomo la stava portando alla pazzia certe volte pensava di essere già pazza certe volte pensava che lo fosse lui ti ha fatto del male Carla? no non fisicamente però la odiava la disprezzava non la sopportava quando piangeva e lei non poteva non piangere tanto lui era arrabbiato non sapeva cosa fare forse invece lo sai disse Silvia andarmene lo farei se potessi Carla cominciò a gemere darei qualsiasi cosa pur di andarmene ma non posso non ho un soldo non ho un posto al mondo dove andare aspetta pensaci bene è proprio vero? le chiese Silvia sforzandosi di assumere modi da consigliera non hai dei genitori? non mi hai detto che sei cresciuta a Kingston? non hai parenti da quelle parti? i genitori si erano trasferiti nella Columbia britannica detestavano Clark manco sapevano se era viva o morta fratelli e sorelle? un fratello più vecchio di nove anni sposato a Toronto se ne infischiava anche di lui se ne infischiava anche lui Clark non gli piaceva sua moglie era una snob hai mai pensato alla casa delle donne? non ti prendono se non sei stata picchiata e poi lo verrebbero a sapere tutti e sarebbe un disastro per il nostro lavoro Silvia sorrise educatamente ci siete ragazzi? Dario che cazzo stai dai ragazzi chi è Silvia? sono quattro personaggi Leon il marito di Silvia poeta morto Clark il marito stronzo di Clara Carla di Carla il tizio che si arrapava a farsi raccontare le fantasie insomma e Silvia che è la vicina no? ah è la connessione è la connessione ok ok va bene hai mai pensato alla casa delle donne? è Flora è Flora ovviamente 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 Cal Cal è Clara hai mai pensato alla casa delle donne? non ti prendono se non sei stata picchiata risponde Carla capito? e poi lo verrebbero sapere tutti sarebbe un disastro per il nostro lavoro Silvia sorrise educatamente mi dispiace Dario mi dispiace e Silvia sorrise educatamente da qualche parte in questa pagina e ti pare il momento di preoccuparti di questo? a quel punto Carla si mise a ridere lo so sono pazza ascolta disse Silvia ascoltami bene se avessi soldi te ne andresti e dove a fare cosa? andrei a Toronto ribatte Carla abbastanza pronta ma non mi rivolgerei a mio fratello starei in un motello roba del genere cercherei un lavoro in un maneggio pensi che saresti in grado di farlo? lavoravo in un maneggio l'estate in cui ho incontrato Clark adesso ho più esperienza di allora parecchia di più si direbbe che ci hai riflettuto a lungo disse Silvia pensierosa e Carla lo sto facendo adesso e quando te ne andresti potendo? ora oggi in questo preciso istante l'unico ostacolo è la mancanza di soldi? Carla fece un respiro profondo l'unico disse d'accordo fece Silvia ascolta la mia proposta secondo me non devi andare in un motel secondo me dovresti prendere l'autobus per Toronto e andare da una mia amica si chiama Ruth Stiles abita da sola in una casa grande e non le dispiacerà ospitare qualcuno ci puoi rimanere finché non ti trovi un lavoro ti darò io qualche soldo chissà quanti maneggi ci sono a Toronto infatti allora che ne pensi vuoi che telefoni per sapere a che ora c'è l'autobus? Carla disse di sì stava tremando si passava le mani su e giù per le cosce e scuoteva vigorosamente la testa non posso crederci disse le restituirò tutto voglio dire grazie glieli ridarò non so cosa dire Silvia era già al telefono e componeva il numero della stazione degli autobus notare naturalmente che esattamente esattamente cioè Carla era stata mandata in missione diciamo così da Clark per raccontare ben altro con un ben altro scopo ma è crollata la pressione psicologica di questo rapporto malsano l'ha fatta crollare di fronte a una persona che invece ritiene amichevole quindi attenzione le cose si stanno evolvendo ogni volta qualcosa diverso da quello che ci si aspetta allora Silvia era già al telefono e componeva il numero della stazione degli autobus sto prendendo gli orari disse rimasi in ascolto poi riangianciò sì sono certa che me li ridarai ti validea di Ruth la devo avvisare però c'è un problema osservò con occhio critico i pantaloncini e la t-shirt di Carla non credo proprio che tu possa partire vestita così non posso passare da casa a cambiarmi rispose Carla terrorizzata non fa niente sull'autobus c'è l'aria condizionata così congeli ci sarà pure qualcosa di mio che ti sta siamo più o meno alte uguali giusto ma lei è dieci volte più magra una volta non lo ero alla fine optarono per una giacca di lino marrone quasi mai messa Silvia l'aveva considerata un acquisto sbagliato lo stile era troppo aggressivo per lei e un paio di pantaloni eleganti marrone chiaro con camicetta di seta avorio la ragazza avrebbe dovuto accontentarsi delle sue scarpe da ginnastica con il completo perché portava due numeri in più di Silvia Carla andò a farsi una doccia quella mattina non ci aveva neanche pensato tanto stava male e Silvia telefonò a Ruth la quale sarebbe stata fuori per una riunione la sera ma avrebbe lasciato la chiave dagli inquilini del piano di sopra bastava che Carla suonasse da loro dalla stazione degli autobus dovrà prendere un taxi però però credo possa farcela che dici? Silvia scoppiò a ridere non è un'oca giuliva sta tranquilla quindi stava parlando Ruth ehi occhio che dalla stazione dovrà prendere un taxi ma stai tranquilla non è un'oca giuliva è solo una persona in cattive acque come può capitare ah bene cioè meno male che sta per uscirne tutt'altro che oca disse Silvia pensando a Carla mentre si provava i pantaloni eleganti e la giacca di lino come fan presto i giovani a riprendersi da una crisi di disperazione come l'era sembrata bella con quei vestiti nuovi l'autobus arrivava in paese alle 2.20 Silvia decise di preparare delle omelette per pranzo di apparecchiare con la tovaglia blu scuro e i bicchieri di cristallo e di stappare una bottiglia di vino spero che tu abbia abbastanza fame da mangiare qualcosa disse quando Carla uscì fresca e smagliante con indosso gli abiti prestati la pelle leggermente ombreggiata di efelidi era un po' accesa dal calore della doccia e i capelli ancora bagnati e scuri erano sciolti con la lanugine soffice di sempre ora ben aderente alla testa disse che aveva fame ma quando provò a portare alla bocca una forchettata di omelette il tremito alla mano glielo impedì non so perché tremo così tanto disse deve essere l'emozione non avrei mai detto che sarebbe stato tanto semplice è successo molto all'improvviso disse Silvia probabilmente non sembra del tutto vero anzi solo adesso mi sembra veramente vero è prima invece che mi sembrava di vivere in ebetita forse quando si prende una decisione una volta per tutte quando la si prende davvero succede così o comunque dovrebbe se hai un'amica disse Carla con un sorriso timido e un progressivo rossore sulla fronte un'amica vera voglio dire come lei posò forchetta e coltello e levò goffa il bicchiere di vino tenendolo con tutte e due le mani bevo a una vera amica disse impacciata non dovrei berne neanche un sorso probabilmente ma non importa anch'io disse Silvia fingendosi allegra e beve e beve ma gustò l'attimo aggiungendo pensi di chiamarlo ok dovrà saperlo come minimo sapere dove sei entro l'ora in cui ti aspetta a casa il telefono no disse Carla in allarme non ce la faccio magari se lei no disse Silvia no no certo che stupidaggine non dovevo neanche dirlo solo che non riesco a concentrarmi forse quel che dovrei fare è lasciargli un biglietto nella buca ma non voglio che lo trovi troppo presto non voglio nemmeno passare in macchina davanti a casa mentre andiamo in paese preferisco passare da dietro perciò se io scrivo il messaggio lei potrebbe magari infilarlo nella buca nostra mentre torna Silvia consentì non vedendo alternative migliori le portò carta e penna versò un altro po' di vino Carla si mise a pensare e infine scrisse qualche parola me ne vado non mi cercarmi sbagliato volutamente naturalmente queste le due frasi che Silvia lesse aprendo il biglietto sulla via del ritorno dalla stazione degli autobus era certa che Carla sapesse scrivere correttamente ma era agitata e aveva composto il messaggio in uno stato di grande confusione mentale maggiore forse di quanto avesse intuito Silvia il vino aveva prodotto un torrente di parole che tuttavia non erano parse particolarmente addolorate o sconvolte quindi abbiamo fatto un avanti temporale per un attimo abbiamo l'immagine di Silvia che ha già salutato Carla alla stazione degli autobus ha il biglietto in mano però poi adesso sicuramente ci viene raccontato meglio che cosa è successo il torrente di parole è provocato dal vino che tuttavia non erano parse particolarmente addolorate o sconvolte aveva raccontato della scuderia presso la quale lavorava quando aveva conosciuto Clark a 18 anni appena finito il liceo i suoi volevano che andasse all'università e lei aveva consentito a patto di potersi iscrivere a veterinaria l'unica cosa che desiderava che aveva sempre desiderato era lavorare con gli animali e abitare in campagna a liceo era stata la classica inetta una di quelle ragazze su cui girano un mucchio di battute sgradevoli ma lei non ci badava Clark era il miglior maestro di equitazione della scuola schiere di donne gli stavano appresso si iscrivevano a lezione solo per averlo come insegnante Carla lo prendeva in giro sulle donne e in un primo momento lui pareva divertirsi ma poi si irritò lei gli chiese scusa e cercò di rimediare facendolo parlare del suo sogno del suo progetto anzi mettere su una scuola di equitazione una scuderia in aperta campagna un giorno Carla entrò nella stalla lo vide appendere la sella e seppe di essere innamorata ora pensava si fosse trattato di sesso probabilmente era stata solo una questione di sesso quando arrivò l'autunno e in teoria lei avrebbe dovuto smettere di lavorare e partire per il college a Guelph non volle saperne e disse che le serviva un anno di pausa capite perfettamente adesso qua ci sta ci sta un attimo una riflessione che cosa ci sta raccontando questo racconto innanzitutto ci sta raccontando una solidarietà femminile fra due donne e ci sta raccontando di una ragazza Carla che per una passione giovanile si è imbarcata nel sogno di qualcun altro il sogno di Clark e ha perso un pochino la propria di strada e ha un pochino probabilmente rinunciato a se stessa questo è un po' il quadro che stiamo vedendo non andò al college ecc disse che le serviva un anno di pausa Clark era intelligentissimo ma non aveva nemmeno voluto finire il liceo con la famiglia aveva perso in pratica tutti i contatti secondo lui i parenti erano come un veleno nel sangue aveva fatto l'assistente in un ospedale psichiatrico il disc jockey per una stazione radio di Lethbridge nell'Alberta il manovale di una squadra di manutenzione autostradale vicino a Thunder Bay l'apprendista barbiere il commesso in uno spaccio delle forze armate e quelli erano solo i mestieri che le aveva detto di cui le aveva detto Carla l'aveva soprannominato Gypsy Lover per via della canzone una vecchia canzone che cantava sempre sua madre si era messa a cantarla anche lei girando per casa e la madre aveva capito che c'era sotto qualcosa last night she slept in a feather bed feather bed with a silken kilt for cover tonight she sleep on the cold hard ground beside her gypsy lover canzoncina che lei cantichiava avete sentito la pronunzia sua madre aveva detto ti spezzerai il cuore è sicuro il patrigno che era ingegnere il patrigno che era ingegnere non reputava Clark neppure capace di tanto un perdente l'aveva definito uno di quelli buoni a nulla come se Clark fosse stato un insetto da scacciare con un gesto della mano al che Carla aveva detto un buono a nulla mette da parte dei soldi per comprarsi una fattoria che è poi quello che ha fatto lui e la sola replica era stata con te non voglio discutere non era manco sua figlia aveva aggiunto come se il punto fosse quello la situazione familiare di Carla perciò ovviamente Carla aveva dovuto fuggire con Clark altra spinta a fare questa cosa non le ragioni per cui dovresti farlo per come si erano comportati suoi in pratica non le avevano lasciato scampo credi che li cercherai una volta sistemata le domandò Silvia a Toronto Carla sollevò le sopracciglia allungò le guance e formò con la bocca una O impertinente disse no no O decisamente un po' sbronza tornata a casa dopo aver lasciato il messaggio nella buca Silvia piccolo fast forward Silvia appena ha messo il messaggio sgrammaticato di Carla nella buca di Clark tornata a casa dopo aver lasciato il messaggio nella buca Silvia sparecchiò i piatti che erano ancora sul tavolo lavò e asciugò la padella dell'omelette mise la tovaglia ai tovaglioli blu nel cesso della biancheria e aprì le finestre compì questi gesti con uno sconcertante senso di irritazione e rancore per la doccia della ragazza aveva tirato fuori una saponetta nuova alla mela il cui profumo alleggiava ancora nella casa come in macchina poco prima più o meno da un'ora aveva smesso di piovere Silvia non riusciva a stare ferma e andò a fare una passeggiata lungo il sentiero che Leon il marito scomparso il poeta aveva sgombrato la ghiaia gettata nei tratti di pantano era stata per lo più smossa dall'acqua in primavera venivano sempre a passeggiare qui in cerca di orchidee selvatiche lei gli insegnava i nomi di ogni fiore che trovavano e lui li scordava tutti tranne il Trillium chiamava Silvia la sua Dorothy Wordsworth che sarà un qualche tipo di riferimento letterario la primavera scorsa un giorno gli aveva raccolto un mazzolino di bocche di leone ma lui l'aveva guardato come ogni tanto guardava lei con semplice stanchezza con disconoscimento continuava ad avere negli occhi Carla Carla nell'atto di salire sull'autobus il suo grazie era stato sincero ma ormai quasi svagato il saluto con la mano disinvolto si era già abituata all'idea della salvezza verso le sei di ritorno a casa Silvia chiamò Ruth a Toronto ben sapendo che Carla non doveva ancora essere arrivata trovò la segreteria telefonica Ruth disse sono Silvia volevo parlarti della ragazza che ti ho mandato spero che non diventi una seccatura per te che vada tutto bene può darsi che ti sembri un po' piena di sé forse è solo l'età fammi sapere ok il messaggio lasciato in segreteria chiamò di nuovo prima di andare a letto ma c'era ancora la segreteria perciò disse soltanto sono Silvia volevo sapere e riagganciò potevano essere le nove e mezza le dieci non era nemmeno del tutto buio Ruth doveva essere ancora fuori e la ragazza ovviamente non rispondeva al telefono in casa ad altri Silvia cercò di ricordare il cognome degli inquilini che stavano al piano di sopra di sicuro non erano ancora andati a dormire ma non le veniva in mente poco male chiamarli avrebbe significato mostrarsi troppo preoccupata ansiosa invadente si mise a letto ma era impossibile starci così prese la trapunta leggera e se ne andò in soggiorno a sdraiarsi sul divano sul quale aveva dormito negli ultimi tre mesi di vita di Leon di Leon era poco convinta di riuscire a chiudere occhio anche lì la parete a vetri era senza tendoni e dal colore del cielo si capiva che era spuntata alla luna anche se non si riusciva a vederla l'attimo dopo si trovò chissà dove su un autobus in Grecia insieme a un mucchio di gente che non conosceva e il motore del pullman faceva un baccano minaccioso martellante svegliandosi si rese conto che in realtà qualcuno bussava alla porta quindi abbiamo avuto un piccolo momento dei suoi sogni Carla è molto carina questa cosa come con una brevissima descrizione ci riesce a far vivere letteralmente un momento in cui ti addormenti fai in tempo a sognare l'attimo dopo si trovò chissà dove su un autobus in Grecia insieme a un mucchio di gente che non conosceva il motore del pullman faceva un baccano minaccioso martellante svegliandosi si rese conto che in realtà qualcuno bussava alla porta Carla bella questa parte molto ben fatta Carla aveva tenuto la testa bassa finché l'autobus non aveva lasciato la città stacco qui siamo consiglia è Carla stacco Carla aveva tenuto la testa bassa finché l'autobus non aveva lasciato la città quindi li siamo in sospeso i finestrini erano scusi scuri chi è che bussava la porta erano scuri nessuno poteva vedere dentro ma era lei a doversi trattenere dal guardare fuori per paura che sbucasse Clark sulla porta di un negozio o fermo a un semaforo del tutto ignaro che lei lo stesse lasciando come se quello fosse un pomeriggio qualsiasi anzi no il pomeriggio in cui doveva entrare in azione il loro o meglio il suo piano impaziente di sapere a che punto Carla fosse riuscita a portare le cose capite ovviamente che il piano molto molto registico molto cinematografico capite che il piano di Carl è anche il tentativo Clark ma no Clark e Carla mamma mia il piano di Clark è il tentativo di rimediare al suo stesso fallimento in cui ha trascinato Carla e ora Carla se lo deve se lo sarebbe dovuto sobbarcare capite no la pressione Clark sarà Flora che bussa alla porta anch'io a MBBM tendo tendo a pensare così ma stiamo a vedere è probabile una volta raggiunta l'aperta campagna Carla levò lo sguardo fece un respiro profondo e osservò i prati vagamente tinti di viola dal colore del vetro la presenza di Mrs. Jamison l'aveva fatta sentire che sarebbe Silvia l'aveva fatta sentire avvolta da un misto di profonda sicurezza e buonsenso alla luce dei quali la sua fuga appariva come la più logica delle decisioni anzi l'unica decisione dignitosa che una persona nei suoi panni potesse prendere Carla si era sentita inaspettatamente padrona di sé perfino dotata di un maturo umorismo mentre raccontava la propria vista a Mrs. Jamison in un modo che le pareva destinato a suscitare partecipazione senza perdere di ironia e sincerità e si era anche sentita pronta a mostrarsi all'altezza di quelle che dal suo punto di vista sembravano le aspettative di Mrs. Jamison di Silvia aveva in effetti pensato che ci fosse la possibilità di deludere Mrs. Jamison una persona che era parsa a suoi occhi molto sensibile e rigorosa ma riteneva personalmente di non correre il minimo rischio in tal senso a patto di non doverle restare intorno troppo a lungo c'è una pressione anche qui Mrs. Jamison è una docente se non erro universitaria Carla comunque non vuole starle troppo intorno naturalmente rischia di minare la sua sicurezza in questo momento è una ragazza insicura certamente sì c'era un bel sole ormai da un po' già mentre pranzavano la luce aveva fatto brillare i bicchieri del vino sin dal mattino presto non era più caduta una goccia spirava anche una discreta brezza che sollevava sul ciglio della via erbe e fiori infestati districando nelle matasse pesanti di pioggia correvano in cielo nuvole estive non minacciose l'intera campagna cambiava scuotendo le fronde nella luce piena di un vero giorno di luglio e attraversando la velocità sostenuta Carla non era in grado di scorgere le tracce del passato recente già mentre pranzavano la luce l'ha fatta ah già mentre pranzavano ok 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 non era in grado di scorgere le tracce del passato recente né le grandi pozze di pioggia che avevano lavato la via avevano lavato via la semente nei campi né le piantine tristi e malferme di Gran Turco o il grano abbattuto dall'acqua pensò che avrebbe dovuto dirlo a Clark che forse avevano proprio scelto una zona del territorio che per chissà quale capricciosa ragione risultava particolarmente umida e tetra mentre c'erano posti dove avrebbero potuto cavarsela benissimo magari in futuro poi si ricordò che a Clark non avrebbe più detto un bel niente mai più non si sarebbe più preoccupata di quello che capitava a lui o a Grace Mike Juniper a Blackberry o a Lizzie Borden sono i cavalli no? quindi capite anche la caratterizzazione la caratterizzazione di come si chiama di Carla all'inizio questo rapporto con gli animali così quasi come se fossero persone fa parte della sua solitudine nella vita che è cinta nella vita di qualcun altro anche il ruolo che ha come si dice la capra e se per caso pure se per puro caso Flora fosse tornata lei non avrebbe saputo nulla era la seconda volta che si lasciava tutto alle spalle la prima era stata proprio come nella vecchia canzone dei Beatles con lei che metteva il biglietto sul tavolo e sgattaiolava fuori di casa alle 5 del mattino per raggiungere Clark che la stava aspettando nel parcheggio della chiesa in fondo alla via l'aveva addirittura canticchiata tra sé mentre partivano sferragliando she's living home bye bye ripensò adesso al sole che allora sorgeva dietro di loro e a come lei osservasse le mani di Clark sul volante i peli scuri nei suoi avambracci esperti e respirasse a pieni polmoni l'odore dentro il furgone odore di olio per auto misto a metallo di ferri e di stalla l'aria fredda di quella mattina d'autunno filtrava dalle giunture arrugginite della carrozzeria il veicolo era del tipo su cui nessun membro della sua famiglia aveva mai messo piede di quelli che molto di lado transitavano nelle strade del loro quartiere la concentrazione di Clark sul traffico mattutino avevano ormai imboccato la superstrada 401 l'ansia di lui per il funzionamento del furgone le sue risposte brusche gli occhi serrati perfino la sua lieve irritazione di fronte all'allegria incosciente di lei ogni cosa le pareva esaltante come pure il disordine della vita passata di Clark la sua dichiarata solitudine la tenerezza che sapeva mostrare con un cavallo o con lei Carla vedeva in lui l'architetto della loro esistenza futura e in se stessa una prigioniera la cui sottomissione era giustificata e sublime questo è molto molto interessante perché parla a tante persone non sai a che cosa rinunci tono differente non sai a che cosa rinunci le scrisse la madre in quell'unica lettera che ricevette e alla quale non rispose mai invece nei momenti da brivido di quella fuga mattutina Carla era ben consapevole di ciò che lasciava dietro di sé pur avendo un'idea alquanto vaga di ciò che le riservava il domani disprezzava i suoi genitori la loro casa il giardino gli album di fotografie le vacanze i libri di ricette il bagno chiamato toilette le cabine armadio il sistema di irrigazione automatica del prato sciordi nel breve messaggio scritto per loro avevo utilizzato il termine autentico ho sempre sentito il bisogno di un tipo di vita più autentico so di non potermi aspettare che comprendiate il discorso del denaro ovviamente derivava anche dalla descrizione del furgone guidato da Carla non tipico del quartiere dove lei è cresciuta ora l'autobus fast forward siamo di nuovo ora l'autobus si era fermato al primo paese lungo il tragitto il deposito era anche una stazione di servizio la stessa dove nei primi tempi lei e Clark venivano a fare il pieno di benzina a prezzo ridotto il loro mondo allora e siamo di nuovo tornando il loro mondo allora comprendeva diversi paesi della zona e qualche volta avevano fatto proprio i turisti assaggiando le specialità dei luridi bar-ristorante del posto stinchi di maiale crauti frittelle di patate birra poi cantavano per tutta la via del ritorno come due campagnoli ammattiti dopo un certo periodo tuttavia ogni uscita venne considerata una perdita di tempo e denaro usciva la sera soltanto chi non aveva ancora capito come funziona davvero la vita questa frase non è in corsivo non è un discorso diretto ma è chiaramente il pensiero di Clark che giustifica se stesso ora stava piangendo gli occhi le si erano riempiti di lacrime senza che neanche lei se ne accorgesse senza che neanche se ne accorgesse si concentrò su Toronto sui primi passi a venire il taxi la casa mai vista il letto sconosciuto nel quale avrebbe dormito da sola la ricerca l'indomani degli indirizzi dei vari maneggi sulla guida del telefono poi il presentarsi a quegli stessi indirizzi chiedendo un lavoro non riusciva a immaginarselo a vedere se stessa in metropolitana su un tram o che badava dei nuovi cavalli o parlava con gente nuova che viveva ogni giorno tra schiere di persone nessuna delle quali era Clark una vita un posto scelti per quella precisa ragione cioè che non contemplavano Clark l'idea strana e terrificante che le si andava chiarendo riguardo al suo mondo futuro mentre cercava di immaginarlo era che lei in quel mondo non sarebbe esistita vi si sarebbe soltanto mossa avrebbe aperto la bocca e parlato facendo ora questo ora quello ma non sarebbe stata davvero presente e la cosa ancora più strana era che lei stava facendo tutto quanto viaggiando a bordo di questo autobus proprio nella speranza di ritrovare se stessa nella speranza per usare parole che avrebbe potuto pronunciare a Mrs. Janison e anche lei poco fa con grande soddisfazione di prendere in mano le redini della sua vita senza nessuno che le alitasse sul collo senza che i malumori degli altri la contagiassero di infelicità ma che cosa le sarebbe stato a cuore come avrebbe saputo di essere viva adesso mentre fuggiva da lui Clark conservava un posto nella sua vita ma a fuga compiuta quando avesse semplicemente ripreso ad andare avanti che cosa avrebbe messo al suo posto cos'altro di chi avrebbe mai potuto rappresentare una sfida altrettanto efficace cos'altro chi avrebbe mai potuto rappresentare una sfida altrettanto efficace ce l'aveva fatta a smettere di piangere in compenso adesso tremava era in pessimo stato doveva recuperare il controllo darsi un contegno datti un contegno le aveva detto Clark qualche volta di passaggio in una stanza dove lei uggiolava piano sforzandosi di non singhiozzare e in effetti sarebbe stata la cosa migliore da fare si erano fermati in un altro paese era il terzo dalla partenza il che significava che dovevano averne attraversato un secondo senza che lei lo notasse l'autobus doveva aver fatto sosta l'autista doveva aver annunciato il nome della località e lei non aveva visto né sentito nulla assorta nella nebbia del suo terrore di lì a poco avrebbero raggiunto l'autostrada puntando dritti su Toronto e lei sarebbe stata perduta perduta che senso poteva avere montare su un taxi e consegnare un nuovo indirizzo alzarsi al mattino lavarsi i denti andare per il mondo perché cercare un lavoro riempirsi la bocca di cibo farsi scarrozzare di qua e di là da un mezzo pubblico le pareva adesso di avere i piedi ah sì sì scusate le pareva adesso di avere i piedi a un'enorme distanza dal corpo le ginocchia dentro quei pantaloni sconosciuti e fruscianti pesavano come macigni si sentiva trascinata verso terra come un cavallo abbattuto che non si rialzerà mai più voglio rileggere questa paginetta questa mezza paginetta ma che cosa le sarebbe stato a cuore come avrebbe saputo di essere viva adesso mentre fuggiva da lui Clark conservava un posto nella sua vita ma a fuga compiuta quando avesse semplicemente ripreso ad andare avanti che cosa avrebbe messo al suo posto cos'altro chi altro avrebbe mai potuto rappresentare una sfida altrettanto efficace ce l'aveva fatta smettere di piangere in compenso adesso tremava era in pessimo stato doveva recuperare il controllo darsi un contegno datti un contegno le aveva detto Clark qualche volta di passaggio in una stanza dove lei uggiolava piano sforzandosi di non si inghiozzare e in effetti sarebbe stata la cosa migliore da fare si erano fermati in un altro paese era il terzo dalla partenza il che significava che dovevano averne attraversato un secondo senza che lei neanche lo notasse l'autobus doveva aver fatto sosta l'autista doveva aver annunciato il nome della località e lei non aveva visto né sentito nulla assorta nella nebbia del suo terrore di lì a poco avrebbero raggiunto l'autostrada puntando avrebbero raggiunto l'autostrada puntando dritti su Toronto e lei sarebbe stata perduta perduta che senso poteva avere montare su un taxi e consegnare un nuovo indirizzo alzarsi al mattino lavarsi i denti andare per il mondo perché cercare un lavoro riempirsi la bocca di cibo farsi scarrozzare di qua e di là da un mezzo pubblico le pareva adesso di avere i piedi a un'enorme distanza dal corpo le ginocchia dentro quei pantaloni sconosciuti e fruscianti pesavano come macigni si sentiva trascinata verso terra come un cavallo abbattuto che non si rialzerà mai più questo è molto interessante perché sta dando una bellissima descrizione psicologica di una persona che ha vissuto una storia molto sbagliata e non sa che cosa la può aspettare al di fuori della vita che ha vissuto fino adesso quindi da un lato ovviamente c'è la tensione anche il non deludere Silvia ricordiamoci tutto questo la sua insicurezza che la accompagna ma poi c'è la paura e il non senso si è talmente consegnata al sogno fallimentare di un'altra persona quando diceva Carla vedeva in lui l'architetto della loro esistenza futura vedeva in lui l'architetto della loro esistenza futura e in se stessa una prigioniera la cui sottomissione era giustificata e sublime anche una delega è capita benissimo della vita si occupa lui l'autobus aveva già caricato a bordo qualche passeggero e i pacchi postali in attesa presso la stazione una donna con il figlio nel passeggino salutava qualcuno con la mano anche l'edificio alle loro spalle anche l'edificio alle loro spalle il caffè che fungeva da fermata pubblica era già in movimento un'onda liquida attraversò lo spazio tra i mattoni e le finestre come se stessero per dissolversi in pericolo di vita Carla essò in avanti il suo corpo enorme le gambe di piombo incespicò esclamando mi faccia scendere l'autista frenò e sbraitò seccato ma lei non andava a Toronto la gente le riservava occhiate distrattamente incuriosite nessuno pareva comprendere il suo reale stato di angoscia devo scendere qui c'è un servizio in fondo al veicolo no no devo scendere guardi che non l'aspetto ha capito ha del bagaglio sotto no sì no niente bagaglio una voce nell'autobus disse claustrofobia ecco che cosa le prende si sente male chiese l'autista no no voglio solo scendere ok ok mi sta bene virgolettato come pensierano vieni a prendermi ti prego vieni a prendermi arrivo questo è un attacco di panico molto bella sta parte bellissimi i dettagli che ci sono prima bellissimo sapete che all'inizio non mi convinceva questo racconto lo trovo meraviglioso l'autobus aveva già caricato a bordo qualche passeggero i pacchi postali in attesa presso la stazione una donna con il figlio nel passeggino salutava qualcuno con la mano anche l'edificio alle loro spalle il caffè che fungeva da fermata pubblica era già in movimento un'onda liquida attraversò lo spazio tra i mattoni e le finestre come se stessero per dissolversi in pericolo di vita Carla issò in avanti il suo corpo enorme le gambe di piombo incespicò esclamando mi faccia scendere è quello che segue bello Silvia ci spostiamo Silvia aveva scordato di chiudere a chiave si rese conto che anche adesso avrebbe fatto meglio a chiudere anziché aprire ma ormai era tardi fuori non c'era nessuno eppure era certa certissima qualcuno aveva proprio bussato chiuse la porta questa volta a chiave ci fu un suono attutito una specie di tintinnio allegro che proveniva dalla parete a vetri accese la luce ma non vide nulla perciò la rispense un animale magari uno scogliattolo nemmeno le porte a vetri tra una finestra e l'altra che affacciavano sulla veranda erano chiuse a chiave anzi neanche accostate essendo rimaste socchiuse per ariaggiare la casa stava rimediando quando qualcuno rise da molto vicino abbastanza da poter essere dentro casa con lei sono io disse un uomo le ho fatto paura? era schiacciato contro il vetro proprio lì accanto sono Clark disse quello che sta in fondo alla via non intendeva invitarlo a entrare ma aveva paura a chiudergli la porta in faccia avrebbe potuto bloccarla senza darle il tempo di farlo non voleva neanche accendere la luce per dormire indossava solo una maglietta lunga avrebbe dovuto prendere la coperta dal divano e avvolgersela intorno alla vita ma ormai era tardi voleva per caso vestirsi disse qui dentro ho giusto quello che le potrebbe servire aveva in mano una sporta di plastica gliela lanciò ma non fece altri movimenti nella sua direzione cosa disse lei con voce rotta la apra e guardi non salta in aria forza la prenda Silvia infilò una mano dentro la borsa senza guardare qualcosa di soffice poi riconobbe i bottoni della giacca la seta della camicetta la cintura dei pantaloni ho pensato che fosse giusto riportarglieli disse lui è roba sua no lei serrò le mascelle per impedirsi di battere i denti una secchezza tremenda le aveva invaso la bocca e la gola mi è stato detto che è roba sua disse lui sottovoce quindi mi è stato detto che è roba sua la lingua di Silvia si muoveva come un tampone di ovatta si costrinse a dire Carla dov'è? vuol dire Carla mia moglie? adesso lo vedeva meglio in faccia vedeva bene quanto si stesse divertendo mia moglie Carla è a casa a letto che dorme e dove deve essere era un bell'uomo ma aveva allo stesso tempo un'aria da scemo alto sottile un bel fisico ma con un portamento che sembrava artefatto modi aggressivi fasulli impacciati un ricciolo scuro gli spioveva sulla fronte un paio di misto di speranza e sarcasmo un sorrisetto puerile sempre sul punto di trasformarsi in un broncio a Silvia non era mai piaciuto ne aveva anche parlato a Lyon a Lyon il quale aveva detto che era soltanto un tipo insicuro e un po' troppo spigliato il fatto che fosse insicuro non metteva lei in condizione di sicurezza maggiore in questo momento era piuttosto a terra disse dopo la sua piccola avventura peccato che lei non si sia potuta vedere in faccia quando ha riconosciuto i vestiti che cosa ha pensato che l'avessi assassinata ero sorpresa disse Silvia lo credo dopo tutto quello che ha fatto per aiutarla a scappare l'ho fatto disse Silvia con uno sforzo considerevole l'ho aiutata perché mi pareva disperata disperata ripetè lui come se esaminasse la parola credo che lo fosse davvero era in preda alla disperazione quando si è buttata giù da quell'autobus e mi ha telefonato per dirmi di andarla a prendere piangeva talmente che non riuscivo neanche a capire che cosa mi stesse dicendo voleva tornare indietro oh sì altro che se voleva tornare era in piena crisi isterica tanto voleva tornare quella ragazza è una vera altalena di umori ma lei forse non la conosce tanto bene quanto me mi pareva piuttosto contenta di andarsene ma davvero mi toccherà crederle sulla parola mi sa non sono qui per discutere con lei Silvia non disse nulla sono venuto per dirle che non gradisco le sue intrusioni nella vita mia e di mia moglie è un essere umano disse Silvia pur sapendo che avrebbe fatto meglio a tacere oltre che sua moglie buon dio ma non mi dica mia moglie è un essere umano sul serio la ringrazio di avermi informato lei però non cerchi di fare la furba con me Silvia scritto corsivo non stavo cercando di fare la furba perfetto sono contento di sentirglielo dire non ho voglia di arrabbiarmi ho solo un paio di cose importanti da dirle primo non mi va che lei cacci il naso mai per nessuna ragione nella vita mia e di mia moglie secondo non voglio che Carla bazzichi più da queste parti non che muoia dalla voglia di farlo sono abbastanza sicuro al momento non ha una grande opinione di lei e poi è ora che impari a pulirsi la casa da sola allora concluse allora le è pervenuto il messaggio quanto basta oh me lo auguro proprio lo spero ah no scusate 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 sempre Clark dice allora concluse allora le è pervenuto il messaggio ha capito ha capito che cosa sto cercando di dirle quanto basta oh me lo auguro proprio lo spero e Silvia disse sì e sa cos'altro penso che cosa penso che lei mi debba qualcosa cosa penso che lei mi debba secondo me mi deve delle scuse Silvia replicò d'accordo se le pare così mi scusi lui cambiò posizione forse solo per tendere una mano e in coincidenza con il movimento del suo corpo Silvia strillò lui scoppiò a ridere appoggiò una mano allo stipite per assicurarsi che non chiudesse la porta e quello cos'è ah no lei lei dice e quello cos'è quello cosa fece lui come se lei volesse giocargli un tiro ma il trucco non funzionasse poi però il suo sguardo colse un riflesso nella finestra e Clark si voltò di scatto non lontano dalla casa c'era una vasta conca di terra che spesso in questo periodo dell'anno si riempieva di nebbia notturna come stasera appunto già da un po' ora tuttavia si era verificato in un punto un cambiamento la nebbia si era infittita assumendo una forma diversa trasformandosi in un alone stellato e radioso da principio un morbido soffione di luce ruzzolante che a poco a poco si addensò in un animale ultraterreno bianchissimo caparbio come una specie di gigantesco unicorno diretto a testa bassa verso di loro Cristo santo mormorò Carl con timoroso rispetto e afferrò Silvia per una spalla il gesto non l'allarmò affatto lo accolse anzi sapendo che nasceva dalla volontà o di proteggere o di rassicurare se stesso poi la visione si frantumò dalla nebbia e dall'effetto di ingrandimento del chiarore che si rivelò provenire da un'auto in corsa nella via laterale alla probabile ricerca di un parcheggio emerse una capra bianca una capretta bianca saltellante non più grande di un cane da pastore Clark mollò la presa disse santo cielo tu da dove sbuchi è la vostra capra disse Silvia non è la vostra capra Flora disse lui Flora l'animale si era fermato a un metro circa da loro intimidito a capo basso Flora disse Clark da dove diavolo salti fuori ci hai spaventati a morte ci sottolineato in corsivo il ci che lui utilizza subito dopo a capo anch'io pensavo devo dire che anch'io pensavo fosse davvero Flora Flora si fece più vicina senza senza alzare ancora gli occhi andò a urtare contro le gambe di Clark stupida maledetta bestia disse lui incerto da dove arrivi si era persa disse Silvia sì infatti non pensavamo di rivederla più onestamente Flora alzò lo sguardo un lampo di luna le illuminò gli occhi ci hai spaventati a morte le disse Clark eri andata a cercarti un amichetto a morte ci hai spaventati capito pensavamo che fosse un fantasma è stato l'effetto della nebbia disse Silvia che a quel punto uscì dalla porta sulla veranda molto tranquilla ormai eh già e poi le luci della macchina una specie di apparizione commentò lui riprendendosi soddisfatto di aver trovato quella definizione esatto la capra venuta dallo spazio ecco cosa sei questa abbiamo veramente trovato la città a Lovecraft in mezzo al racconto la capra venuta dallo spazio ecco cosa sei la capra venuta dallo spazio mondo boia disse accarezzando Flora ma quando Silvia allungò la mano libera per fare altrettanto nell'altra ancora reggeva la borsa dei vestiti indossati da Carla Flora abbassò subito la testa come per prepararsi a incornare di brutto era Silvia che ancora reggevano quando abbassò la mano per fare altrettanto e mentre ancora reggeva Flora abbassò la testa come per prepararsi a incornare di brutto le capre sono bestie imprevedibili disse Clark anche quando sembrano domestiche anche quando sembrano domestiche non lo sono non da adulte almeno è adulta sembra così piccola più di così non cresce restarono a osservare tutti e due la capra come se aspettassero da lei nuovi spunti di conversazione che a quanto pareva non sarebbero arrivati da questo momento non potevano più andare né avanti né indietro Silvia credette di scorgere un'ombra di possibile rammarico in proposito sul viso di Clark fu lui tuttavia a prenderne atto si è fatto tardi disse già ribatte Silvia come se si trattasse di una visita qualunque ok Flora dobbiamo rientrare mi cercherò un altro aiuto in caso di bisogno disse lei e comunque forse non mi servirà più d'ora in poi e aggiunse quasi scherzosa vedrò di non darle fastidio certo fece lui meglio che entri in casa si raffredderà una volta si pensava che la nebbia notturna fosse pericolosa questa mi è nuova allora buonanotte disse lei buonanotte Flora in quel momento squillò il telefono mi scusi Clark sollevò una mano voltandosi buonanotte era Ruth al telefono a Toronto naturalmente capite eh la capra cioè iniziamo a pensare eh sì eh sì è certo sì è certo sì l'arrivo della capra che situazione c'era prima interessante era Ruth al telefono ah disse Silvia c'è stato un cambiamento di programma evidentemente non chiuse occhio pensando alla capretta la cui apparizione dalla nebbia le pareva sempre più incantata si chiese perfino se Leon chissà potesse avere in qualche modo potesse avere in qualche modo a che fare con il fenomeno se fosse stata un poeta avrebbe scritto una poesia su una cosa del genere ma per sua esperienza gli argomenti che secondo lei erano adatti a diventare materiale poetico a Leon non piacevano Carla non aveva sentito Clark uscire ma si svegliò sentendolo rincasare lui le disse di essere stato a dare un'occhiata alla stalla è passata una macchina poco fa e non capivo che cosa ci facesse da queste parti non riuscivo a riaddormentarmi se non andava a controllare che fosse tutto a posto beh è tutto a posto a quel che ho potuto vedere sì e mentre c'ero aggiunse ho pensato tanto male che vada a trovare una certa persona le ho riportato i vestiti Carla si rizzò a sedere non l'avrai svegliata si è svegliata da sé nessun problema abbiamo fatto due chiacchiere oh nessun problema non le hai detto niente di quella storia vero probabilmente il riferimento era al piano famoso niente non le ho parlato ah cazzo non le hai detto niente di quella storia vero niente non le ho parlato davvero era tutta inventata davvero devi credermi tutte bugie ok mi devi credere e allora ti credo mi sono inventata tutto ok Clark si mise a letto hai piedi freddi disse lei sembrano bagnati c'è un mucchio di rugiada vieni qua aggiunse quando ho letto il messaggio la aggiunse è sempre il collegamento al parlante precedente non è facile perché di solito alternano vieni qua aggiunse quando ho letto il messaggio mi sono sentito sprofondare giuro se mai te ne andassi mi sembrerebbe di avere un gran buco dentro il tempo si era stabilizzato sul bello naturalmente a che cosa a che cosa si riferisce presumibilmente quasi certamente alle cose che Carla ha raccontato a Silvia quando dice davvero tutta inventata davvero devi credermi tutte bugie chiaramente presumo il riferimento siano alle confessioni che Carla ha fatto a Silvia il tempo siamo molto vicini alla fine ragazzi abbastanza il tempo si era stabilizzato sul bello per strada nei negozi all'ufficio postale tutti salutavano dicendo che l'estate era arrivata finalmente l'erba dei prati e perfino il povero grano abbattuto si ripresero le pozzangre asciugarono il fango diventò polvere si alzò un vento tiepido e la gente tornò ad avere voglia di fare il telefono squillava richieste di escursioni corsi di equitazione gli organizzatori di campi estivi avendo disdetto le visite ai musei erano di nuovo interessati comparvero i primi pulmini affollati di ragazzi turbolenti i cavalli correvano intorno allo steccato liberi dalle coperte antipioggia Clark era riuscito a procurarsi un pezzo di copertura a basso costo aveva passato tutto il primo giorno dopo la fuga così era stata battezzata la gita in autobus di Carla a sistemare la tettoia del maneggio per un paio di giorni mentre si occupavano di varie faccende lui e Carla si scambiarono saluti con la mano se per caso gli passava accanto e nei pressi non c'era nessuno Carla gli posava un bacio sulla spalla attraverso il tessuto leggero della camicia estiva se provi un'altra volta a scapparmi ti concio per le feste le disse Clark e lei lo faresti davvero? cosa? conciarmi per le feste e come? era di ottimo umore adesso irresistibile come quando lo aveva conosciuto c'erano uccelli ovunque merli dall'ala rossa petti rossi un paio di colombe che cantavano al mattino stormi di corvi e gabbiani in volo di ricognizione dal lago e grandi avvoltoi dal collo rosso appollaiati tra i rami di una quercia morta a mezzo miglio circa di distanza ai margini del bosco da principio se ne stavano lì ad asciugarsi le ali voluminose svolazzando un po' intorno per poi assestarsi e lasciare che il sole e l'aria tiepida facesse la loro parte in capo un paio di giorni già si erano ripresi e volteggiavano alti prima di scendere in picchiata sparire tra le chiome e tornare a riposarsi sul solito albero spoglio la padrona di Lizzie Joy Tucker si ripresentò cordiale e abbronzata non ne poteva più della pioggia perciò si era fatta una vacanza sulle montagne rocciose adesso era tornata tempismo perfetto in termini di clima disse Clark ora lui e Joy Tucker scherzavano di nuovo come se nulla fosse accaduto Lizzie mi sembra in forma disse lei ma dov'è la sua amichetta come si chiama Flora sparita disse Clark magari è scappata anche lei sulle montagne rocciose ho visto un mucchio di capre selvatiche da quelle parti con delle corna stupende l'ho sentito dire per tre o quattro giorni avevano avuto troppo da fare per andare a prendere la posta nella cassetta delle lettere aprendo la Carla vi trovò la bolletta del telefono la promessa di una possibile vincita di un milione di dollari in cambio di elaboramento a una certa rivista e la lettera di Mrs. Jamison Silvia mia cara Carla ho molto pensato agli avvenimenti piuttosto travagliati degli ultimi giorni e mi ritrovo così spesso a dirmi ma in realtà a dirti delle cose che ho creduto di doverte a dirmi ma in realtà a dirti delle cose che ho creduto di dovertene parlare anche se a questo punto non mi è consentito di meglio che farlo per lettera niente paura comunque non mi devi rispondere Mrs. Jamison grazie mille le onchi thank you very much Mrs. Jamison proseguiva dicendo di avere forse interferito troppo nella vita di Carla e di avere commesso l'errore di credere in qualche modo che la sua felicità e la sua libertà fossero la stessa cosa non le stava a cuore altro che la felicità dell'amica e ora capiva come Carla dovesse trovarla all'interno del suo matrimonio poteva solo sperare che la fuga e le impetuose emozioni che l'avevano accompagnata avessero fatto affiorare i suoi veri sentimenti permettendo al tempo stesso al marito di riconoscere i propri diceva che avrebbe compreso perfettamente se in futuro Carla avesse preferito evitarla e che le sarebbe comunque stata per sempre riconoscente della presenza nella sua vita in un periodo tanto difficile naturalmente sì agghiacciante davvero anche perché ricordiamoci sempre che l'intervento di Silvia è anche stato l'intervento di una persona innamorata non soltanto dell'amica che vuole liberare l'altra e ora abbiamo un estratto proprio della lettera come si vede centrato in corsia sapete che è un po' dura farsi due ore quasi intere di lettura un po' dura vediamo la cosa più strana e meravigliosa di tutta questa catena di avvenimenti mi sembra la ricomparsa di Flora qui è Silvia che sta scrivendo anzi la definirei quasi un miracolo dove sarà stata per tutto questo tempo e come mai ha scelto proprio quell'occasione per ripresentarsi sono sicura che tuo marito ti ha raccontato stavamo parlando sulla porta della veranda io che davo le spalle alla casa sono stata la prima a vedere quell'oggetto bianco calarci addosso dal buio ovviamente era solo un effetto della foschia di terra ma terrorizzante ti assicuro credo di essermi messa a strillare ma in vita mia mi ero sentita stregata in quel modo nel vero senso della parola forse tanto vale essere onesti e parlare di panico eccoci due adulti paralizzati dal terrore e dalla nebbia se ne esce la piccola flora smarrita deve esserci un significato speciale in tutto questo notare come lei sta avendo rispetto per quella che considera una scelta di Carla ma noi l'abbiamo letta ed è stato il panico vero il vero attacco di panico e la vera incapacità di essere indipendente deve esserci un significato speciale in tutto questo so bene che Flora è soltanto una bestiola qualsiasi e che con ogni probabilità ha passato tutto il tempo della sua scomparsa a cercare di farsi mettere incinta in un certo senso il suo ritorno non ha il connesso con le nostre vite umane eppure vederla comparire in quel preciso momento ha avuto un profondo un profondo impatto su tuo marito e su me quando due esseri umani divisi da un motivo di ostilità si ritrovano insieme disorientati anzi no spaventati dalla stessa apparizione si produce un legame tra loro che li fa sentire uniti nel modo più inatteso uniti nella rispettiva umanità non so come altro dirlo ci siamo separati quasi da amici ecco perché Flora riveste nella mia vita e forse anche in quella di tuo marito e nella tua il ruolo di un angelo ti auguro ogni bene Silvia Jamison quasi didascalica questa lettera quasi a volerci spiegare a descrivere quello che è successo ma il racconto non è finito rimane una pagina e mezzo non appena l'ebbe letto Carla accartocciò il foglio poi lo bruciò nel lavello le fiamme salirono minacciose lei aprì il rubinetto poi raccolse le luride scaglie nere e le gettò nel water come avrebbe dovuto fare subito ebbe molto lavoro per il resto della giornata e l'indomani e l'indomani ancora dovette portare fuori due gruppi dare lezioni ai bambini sia individuali che collettive la sera quando Clark la cingeva con le braccia per quanto impegnatissimo non era mai troppo stanco adesso mai arrabbiato non faceva fatica a mostrarsi disponibile era come se avesse un ago mortale ficcato nei polmoni ma respirando con attenzione potesse evitare di sentirlo ogni tanto però doveva respirare a fondo e l'ago era ancora lì e questa è una citazione perché questa cosa l'ho già letta era uguale da qualche parte porca era come se avesse un ago mortale ficcato nei polmoni ma respirando con attenzione potesse evitare di sentirlo ogni tanto però doveva respirare a fondo e l'ago era ancora lì dove diavolo l'abbiamo accidenti sappiate che questa è una citazione porca Silvia aveva preso un appartamento nella cittadina universitaria dove insegnava la casa non è Silvia aveva preso un appartamento nella cittadina universitaria dove insegnava vi ricordate che doveva fare i 40 chilometri no? ma è davvero da Wallace? no 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 io me lo ricordo proprio alla lettera alla lettera lettera quasi letterale questa citazione chissà dove cazzo l'ha letta Silvia aveva preso un appartamento nella cittadina universitaria dove insegnava la casa non era in vendita o comunque non c'era nessun cartello fuori che lo annunciasse che lo annunciasse Leon Jamison ricevette una sorta di riconoscimento postumo la notizia comparve sui giornali non parlava non si parlava di soldi questa volta no 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 aveva proprio questo significato aveva proprio questo significato significato metaforico con l'avvicinarsi delle giornate secche e dorate dell'autunno stagione confortante e generosa Carla scoprì di essersi abituata al pensiero straziante che albergava in lei non era più così acuto anzi non la sorprendeva neanche più al momento invece l'abitava un'idea quasi seducente una sorda tentazione profonda le bastava alzare gli occhi guardare in una particolare direzione per sapere dove poteva dirigere i propri passi una passeggiata serale una volta concluse una passeggiata serale una volta concluse le faccende del giorno al margine del bosco all'albero spoglio su cui gli avvoltoi avevano gozzovigliato e poi le piccole ossa sporche in mezzo all'erba il teschio con appeso forse qualche brandello di pelle insanguinata era chiaro un teschio che le sarebbe stato nella mano come una tazza da tè la consapevolezza in una mano o magari no magari non c'era niente laggiù potevano essere successe altre cose Clark poteva aver cacciato via Flora o averla legata nel retro del furgone e averla liberata chissà dove averla riportata dove l'avevano presa per non ritrovarsela d'attorno a ricordare a entrambi poteva anche essere libera i giorni passavano e Carla non si avvicinava a quel luogo resisteva alla tentazione finito se volete rileggiamo l'ultimo paragrafo perché dà l'idea infatti ci sta con l'avvicinarsi delle giornate secche e dorate dell'autunno stagione confortante e generosa Carla scoprì di essersi abituata al pensiero straziante che albergava in lei che è quello di prima era come se avesse un ago mortale ficcato nei polmoni ma respirando con attenzione potesse evitare di sentirlo ogni tanto però doveva respirare a fondo e l'ago era ancora lì ci raccontano di Silvia che ha trovato casa là con l'avvicinarsi scoprì di essersi abituata a quel pensiero straziante che albergava in lei non era più così acuto anzi non la sorprendeva neanche più al momento invece l'abitava un'idea quasi seducente una sorda tentazione profonda le bastava alzare gli occhi guardare in una particolare direzione per sapere dove poteva dirigere i propri passi una passeggiata serale una volta concluse le faziende del giorno al margine del bosco all'albero spoglio su cui gli avvoltoi avevano gozzovigliato l'avevamo capito perfettamente quando sono saltati si parla di tutti quegli uccelli e sono saltati fuori quegli avvoltoi penso che molti di noi abbiano pensato la capra e poi le piccole ossa sporche in mezzo all'erba il teschio con appeso forse qualche brandello di pelle insanguinata un teschio che le sarebbe stato in mano come una tazza da tè la consapevolezza in una mano o magari no magari non c'era niente laggiù potevano essere successe altre cose Clark poteva aver cacciato via Flora o averla legata nel retro del furgone averla liberata chissà dove averla riportata dove l'avevano presa per non ritrovarsela d'attorno a ricordare a entrambi puntini poteva anche essere libera i giorni passavano e Carla non si avvicinava a quel luogo resisteva alla tentazione sono d'accordo la parte centrale è stata veramente bella c'è stato un crescendo incredibile l'arrivo della capra ha spezzato tutto e la parte finale è deludente perché ci aspettavamo che la verità uscisse e facesse il suo anche in modo terribile e invece tutto questo viene strozzato e tutto quello che poteva essere titolo del racconto in fuga tutto quello che poteva essere non sarà e questo è proprio il senso del racconto il senso di una persona troppo debole per per darsi una vita esattamente è assolutamente volutamente anticlimatico ed è il il significato a mio avviso di questo racconto che ho trovato molto bello mi è molto piaciuto e Calipso ti leggo la capra simboleggia i sacrifici ma se si pensa è vero è vero la capra è l'animale sacrificale giustissimo ma se si pensa la capra amaltea che dà la vita in molte culture simboleggia un agognare la libertà senza farcela lo trovo geniale sì 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 la morale non si può dire di un racconto così sottile c'è una morale non è la morale non è lavatevi le mani c'è un c'è un significato c'è un la morale qual è seate persone libere abbiate il coraggio della vostra della vostra personalità del vostro percorso non però non è facile non è così banale non è facile Carla è stata affermata da una da quell'attacco di panico quella descrizione meravigliosa da qualche cosa che è dentro di lei ti viene da dire cazzo Carla dai però sai che non è così facile soprattutto se conosci quello che lei ha vissuto in quel momento e quindi molto 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 difficile giudicare questa è la cosa importante al tempo stesso naturalmente Clark è il personaggio negativo di questo racconto ma è un personaggio di cui conosciamo meno rispetto a Carla è un personaggio terribile che comunque ci comunica un dolore però anche una violenza e una rabbia represse che fanno paura e dalle quali è meglio stare lontani ma a sua volta avrebbe bisogno di essere aiutato questo è chiaro Silvia è fuggita in Grecia Flora fugge assolutamente sì Carla fugge esatto sì sì Calypso assolutamente sì ci sono tre ritorni con tre esiti diversissimi davvero Sizer ho pensato la stessa cosa sempre in questi casi viene da pensare così poi in realtà è sbagliato perché a volte è così e a volte gli scrittori o le scrittrici sono così grandi da riuscire davvero a raccontare ciò che non hanno mai visto né esperito viene anche a me da pensare così sì 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 sono d'accordo Tresor no a me è piaciuta molto quella parte lì ma io non credo abbiano avuto una vita così normale sinceramente credo che il dolore psicologico di Carla sia molto molto profondo e molto interessante è una persona che non ha mai non ha mai non ha mai vissuto di fatto dalla fuga dalla famiglia a Clark credo che sia un grandissimo dolore il suo ricordiamoci che vivono in una roulotte per dire quanto si stanno addosso inevitabilmente in una condizione di indigenza lei costretta a fare la donna delle pulizie eccetera quindi insomma no non ho pensato first world problems no no si può anche non si possono anche non provare la marro comunque è cresciuta rinchiusa perché ha condito per anni la madre malata infatti se conti che parla del Canada che è un melting pot culturale per eccellenza in realtà anche qui abbiamo uno spaccato culturale molto molto risicato sì 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 a me non è piaciuta la scrittura all'inizio all'inizio ho avuto la sensazione di qualcosa di troppo lungo siamo stati abituati c'è da dire siamo stati abituati a degli autori veramente sintetici che vanno molto dritti drittissimi al punto cioè dopo dieci pagine pensavo ma l'ona Borges sto racconto lo faceva durare tre però poi le cose hanno avuto un senso non tutto il suo stile non mi piace sempre però ha avuto la capacità di descrivere alcuni passaggi come ad esempio il sogno il dormiveglia di Silvia a un certo punto delle descrizioni che sono veramente incredibili e a me ha fatto impazzire la descrizione sull'autobus veramente bellissima e poi è molto interessante l'uso che fa dei tempi proprio perché ci sono queste inquadrature questi momenti che sono fanno proprio parte del respiro del racconto di come ha senso raccontarlo per farti capire bene per darti un po' di suspense sì io l'ho trovata una descrizione molto molto anche perché è molto difficile descrivere una cosa del genere e il fatto che si perda quasi in particolari di inezia e ci sia qualcosa che non ha senso e la necessità di uscire l'ho trovata molto ben fatta comunque sì ragazzi abbiamo scoperto una nuova autrice sì anche secondo me è gestita molto bene la non linearità del racconto è chiaro che da ascoltare richiede una certa attenzione ma non è che poi ci sia da impazzire ai piani temporali sono due o tre non è che sia chissà che da quel punto di vista però sì bisogna stare un minimo attentini sicuramente è un'autrice di cui rileggeremo cose devo dire che questa lunghezza mi mette un filo in difficoltà perché con la voce non è così facile forse in occasioni diverse è solo che come lo spezzi in due è eccessivo spezzarlo in due un racconto come questo vediamo vediamo devo un pochino prendere devo devo un pochino prendere le misure con cose più lunghe forse con più pause ma magari a volte non ce n'è anche tantissimo da dire però forse ci stanno di più forse ci stanno di più e vediamo 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 quel racconto lì dove si trova nei 49 racconti Dario eh certo certo Freddy sì anche questione di allenamento faccio finta di non leggere Kentanuki comunque sono contento di questa lettura sinceramente non so che cosa porterò giovedì giovedì sera chiaramente l'impostazione sarà quella di cercare di leggere almeno due o tre racconti l'abbiamo fatti anche quattro una sera e sicuramente porterò di Borges l'altro duello un altro duello vi ricordate che sì sono d'accordo Calypso infatti in nessun modo si può ridurre questo a un racconto di genere a un racconto che viene svilito che poi non sarebbe svilire ma sarebbe comunque ridurne la portata a qualche cosa legato alla questione di genere e questo è una cosa che mi piace da morire proprio perché è universale il suo valore indipendentemente dai generi e dagli orientamenti che vengono espressi detto questo che cosa volevo dire sicuramente leggeremo il racconto vi ricordate che abbiamo letto Il duello l'altra volta siccome subito dopo c'è un altro racconto che all'epoca segnai anche quello con una stellina che mi piacque molto che si chiama L'altro duello sicuramente ci sarà quello però non so che altro sceglierò ve lo dico come al solito su Instagram e su Telegram no gatto leggiamo uno solo di Borges in una sera quindi quelli saranno più avanti quello tra l'altro credo sia abbastanza lungo quello forse più da un martedì comunque ci pensiamo bene ci pensiamo bene in ogni caso guys grazie mille grazie mille per avere seguito le stelline a matita le cose che mi piacevano di più grazie mille per aver seguito vi ringrazio molto vediamo vediamo ragazzi ci penso magari anche qualcosa di nuovo e qualcosa di vecchio facciamo un po' un mix come al solito cosa volevo dire ci vediamo domani se siete appassionati di videogame andiamo avanti con Bioshock Infinite se no per gli appassionati di letteratura ci vediamo giovedì alle 21 in ogni caso grazie grazie davvero è stato un piacere stare in vostra compagnia sinceramente state benone state benone ragazzi a presto grazie a tutti